ci siamo ragazzi buon pomeriggio sentite tutto il team italy salutate salutiamo a vicenda pizza il team italy è pronto a sucare no 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 attenzione non ci siamo esercitati tutta la settimana per perdere oggi che vi voglio competitivi assolutamente scusa umiliare che fate fare manifesting fate manifesting chiedete che si allenava oggi si spacca tutto è ma viking lui dice che non ci ha giocato tanto ci ha giocato soltanto altro ieri mi pare ieri io pure tutti abbiamo questo vizio di puntare sul sabato la presa io io vi racconto questo che io vi devo raccontare la mia giornata lo faccio adesso in countdown allietando credo le orecchie i cervelli di tutti i collegati fra frasi ci sono cose della giornata che non si possono dire no ti giuro di sì non mi sono non sono brand safe amsterdam ma non ho fatto uso di amsterdam ma che prima di questa live assolutamente no un massimo rispetto per mario kart detto questo mario kart un fratello un fratello un ragazzo videogioco compi certi valori ecco sì sì assolutamente ma comunque si guida sempre in condizioni normalità ricordiamolo quindi siamo tutti quanti premessa madonna allora io starto la mia giornata così accendo il mio portatile che mi sono che riato da casa quindi sono contentissimo metto la webcam metto il microfono attacco la switch e penso cazzo quanto mi sono organizzato bene mi guarda allo specchio e faccio francesco tu sei uno che si organizzato da dio bravo di batte il cinque quelle mani a pistola esatto tipo fonzi mi rendo conto che sono un bel ragazzo poi mi si è portatile attacco il caricatore alla corrente e in olanda hanno solo le tedesche che detta così hanno solo le prese tedesche ragazzi io c'ho lo spinotto quello di tritone del babbo di ariel quindi a tre denti di conseguenza dico porca miseria questo è un problema ma è un problema non avrei detto non avrei detto porca miseria su po no bestemmiato detto che poi potete immaginare voi la bestemmia un po tipo un libro gay ma si sa che immaginate cambia la siano in Italia cambia anche la bestemmia quindi è precisamente bellissimo allora dico vabbè vado giù in hotel come tutti gli hotel che si rispettino avranno dei convertitori degli adattatori vado giù mi guardano come se li avessi chiesto non lo so la sacra sindone di Gesù Cristo e no non ce l'avevano ma poi si sottintende il portiere noi queste cose non le facciamo dico vabbè ok non c'è problema vado fuori vado al primo market che troverò e prenderò un adattatore la quest mi ha richiesto due ore e mezzo e alla fine ho trovato un adattatore che viene definito come universale io chiedo al commesso se l'universo contiene anche l'italia o meno lui mi risponde di sì torno felice a casa attacco il caricatore aspetta aspetta attacco il caricatore e funziona e dico bella intanto ci hanno detto chi sono i cattivi chi sono i cattivi e non lo so si può dire dovremmo chiedere all'organizzazione se si può svelare chi sono i mal fattori parte fra sette minuti più o meno chiediamo poi e perché non voglio capito rompere la magia comunque ci hanno già accoppiato con un team mi chiedono mi chiedono in chat se rai stream squad dobbiamo fare stream squad mi sa che si è però la stream squad ragazzi da massimo 4 4 non so come farla magari chiediamo poi allo staff si finisco il racconto metto effettivamente la il caricatore funziona dico bella la giornata è svoltata lo streaming si fa riprendo un uber vado a mangiare vado in bagno perché mi scappava la plin plin appoggio il braccio sul cosino per asciugati le mani e sento un pizzicchio fortissimo e faccio cazzo preso la scossa ragazzi e però continua questa cosa fortissima mi fa malissimo e dico madonna che scossa lunga che o mi guardo e ho una vespa gigante culo veramente dentro il mio braccio entra muscolo è una delle mie fobie più grandi essere una vespa e non mi era mai successa in vita mia ma la vespa lo fanno adesso quindi sei cresciuto come uomo e come professionista sì e come padre come tutto tolgo questa vespa dal mio braccio la vespa vola io pure mi siedo e dico ai miei commensali se muoio di te ragazzi streaming che non ho potuto fare mario kart se ne accorgeranno che non ci sei insomma sì ma non muoio e quindi posso tornare a casa e vi siete persi gli ultimi 40 minuti nei quali bestemmiavo perché la switch non si connetteva internet con l'hotspot dell'iphone ma questo è questo io io l'ho vissuto in prima persona quelli li abbiamo io c'ho ancora due minuti di countdown ma vaffanculo io apro apriamo tutti io ho aperto anche io mi dispiace che io adesso farò un ci siamo un po energico che ritaggierà sincronizzo un tema bene 3 2 1 ci siamo e la mattina ancora elegantemente vi fa ridere che nell'hotel c'è una poltrona da gaming che abbiano avvertito l'energia ma vi assicuro che c'è una poltrona tra però un po di steam squad di stream squad facciamoli anche 34 dividiamo facciamoli facciamo così mandatemi un invito ragazzi perché io non riesco a farlo agilmente non c'è il mio collega qua accanto c'è tutto mezzo morto quindi mandatemi l'invito allora come dov'è la cosina della stream squad qua non la trovo ragazzi spero che questo non dia fastidio alla mia connessione hotellifera ma dovrebbe essere tutto ok ragazzi sentite bene il sottofondo voi scusatemi se faccio questi discorsi del cazzo che annoieranno i vostri spettatori ma sono tipo con un portatile dall'olanda e quindi non so neanche se mi si veda o senta bene io ho inviato ho invitato fossai fra se volete poi non so appena capisco come fare questa cosa stavo facendo un ride non credo benissimo questa cosa io ho invitato a mia volta sabato però come si fa allora lo invito anche io guarda devi solo andare negli avvisi di twitch nelle notifiche dove ci sono i messaggi anche anche ok accettato robie ok ok inviati ma ok francesco c'è bella arrivo anche io ragazzi scusatemi stavo ringraziando potentemente bella ragazzi davvero grazie di tutto poi domani ci vedremo con pokémon e il trailer mio dio la mia webcam impazzita non sono avuto solo in canotta dove trovo l'invio l'invito dovrebbe essere i messaggi lina sport autore da anche a ok ok a via stream squad eccolo qua diciamo io non ho avuto l'invito ancora ci siamo io posso solo accettare esatto anch'io stessa cosa stessa cosa a forse possiamo ragazzi mi fate sapere da qui se vedete lo stream squad a forse posso darvi il link o invece che mandarvi perché l'invito non me ne fa mandare ma forse posso mandarvi il link e in un modo o nell'altro penso ma io che ne so in fondo della vita a me ne chiediamo a chi è sul round 2 se aggiornate vi o anche a chi è sugli altri in realtà se fate f5 adesso vedete la stream squad però a me non è arrivato l'invito aspetta se vado se vado sul canale ufficiale poi di twitch rivals mi vedono fa queste cose secondo me si staccandalizzano allora io non posso invitare tutti quanti quindi bisogna che un altro di voi prima è quindi io devo abbandonare uno di voi compatriotti della squadra e chi chi vuole chi vuole essere smollato via ci stanno dicendo costi sul disco e ragazze che dicono ora comunicazione ufficiali se si è in sei doni eccoci che dobbiamo fare bellissimo che ora sia canonico anche per lo stato di twitch ok asap nella lobby come si fa andare nella lobby stanno scrivendo e in team sai donia e donia ok si vedo vedo hanno messo i percorsi come allora ci hanno invitato nella lobby quindi noi andiamo su mai possa aiutati allora l'italia line devo fa aspettate perché dovreste dovrei magari far vedere anche il mio pubblico invece che solo la mia faccia adesso mio pubblico dovrebbe vedere anche questo che è già un allora andiamo indietro andiamo indietro che stavo facendo il gran premio ma no sbagliato ragazzi io continuo a non essere in stream squad non so se aspetta prima risolviamo sta cosa della visione ok 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 sì io non ho idea di cosa sia la lobby in questo momento quindi io non ero di la rea di sideonia non aspetta c'è scritto se non è c'è scritto che l'ho trovato team sideonia ma che vuol dire e come si fa modalità online un giocatore torneo ok crea torneo e che io non stream questa parte è infatti un simbolo per il torneo mario inserisci il nome del torneo rivals no no non faccio cose esotiche che se si avrei voluto scrivere altro il codice inutile richiamare people rivals squadre sfida individuale no sfida squadre ma me non hanno detto niente però di questa cosa che gp 150 cc sfida squadre oggetti normali cp un normale veicoli guida assistita frequenza settimanale no non guida assistito disattivata frequenza settimanale giorno della fine domenica ragazzo ma stessi auguri mi ha incontrato a tempo determinato ma che cos'è sta roba raga mai voglio fare una lobby infatti devi fare una lobby basta regionale forza scusami tu hai scelto il torneo viking se devo andare dietro perché non lanci una corsa mondiale state dicendo ragazzi che devo fare provo anch'io a vedere basta ragazza cosa matchmaking che ti mette in condito matchmaking scusatemi il codice ci può dare una mano come si fa una lobby di venta forse miliano lo sa mario kart miliano ti prego io credo che sia quello lì ragazzi non penso ci siano alternativi chiedo anche la mia chat e vi riesco a leggere se sapete suggerire un periodo quindi assistita frequenza settimanale ma periodo di tempo non ha troppo importante inizio 2 8 va bene ok data di fine alle 19 no sempre di oggi vai va bene tanto non staremo un'ora numero di corse ragazzi io vedo cioè secondo me facciamo faville già adesso ci danno una penalità di 10 punti allora dalla mia chat dicono un nome per la squadra rossa dicono lobby con gli amici non il torneo dalla mia chat allora ragazzi porca di quella miseria amici e avversari crea un gruppo privato esatto lo sapevo vuoi creare un gruppo privato gli metti un iconcina che te ne frega fu figli credo eh allora ok allora amici e avversari d'accordo io non credo io solo saba crea un gruppo privato no perché quello deve avere gli amici nella lista però ho creato un gruppo privato è però se non abbiamo come arrivarci cioè dovresti aggiungerci agli amici ma c'è una guida ufficiale per fare questa cosa ragazzi non vedi queste cose nei rivali potremmo chiederlo alla chat grado di audio we do the lobby siamo già i più odiati di questo tu lo sai francesco che adesso che tu hai scritto audio we do the lobby ci mandano ci mandano una di ci mandano una paella ragazzi veramente cioè sappiate che sono ci aiuti sul server discord ufficiale di questi rivali c'è scritto ok come 150 non ho capito siamo sei minchioni un po è francesco cosa hai detto no stavo sto provando ma non no no non va bene non va bene neanche questa lobby e di aggiungere tutti tutti quelli dell'altro team each team plays one head to head match allora c'è scritto we will have the other team set up the lobby ma come si entra in una lobby allora ok ma come si fa ad avere penso che poi nel torneo inseriremo un codice e allora è torneo aveva ragione vai forse se dobbiamo inserire un codice cerca torne in corso allora ce ne sono tantissimi ragazzi e potrebbero esserci delle nonne un senno di poi questa parte era meglio non stremmarla no forse no no se è una delle parti più ricordate si lipperanno solo queste e chiedono dalla mia chat di scrivere how do we do the entering in the lobby how do we inside how do we do the thing the tuy enter in the lobby how do we do the course how do we ride we want to press the pedal how do we attend the console ragazzi comunque stiamo giocando a un gioco nel quale il voice acting apre le danze con e welcome to mario 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 pari rispetto per il nostro acce per una guida nel torneo pensavo che stavano è stato più stress forward c'è vada ragazzi non l'avete capito che non ci inviterà più un cazzo di nessuno scusate ragazzi ti invita che pensa se già luca amo è andata così è andata così va bene cioè è stato bello fare questa esperienza il primo rival dirà il tuo e l'ultimo chi crea la lobby per primo vince questo è il rival ragazzi andava fatto andava fatto bene o perché loro ci devono dare un codice inserire posso consolarvi perché ho fatto un rapido giro con i miei iscritti e anche gli altri stanno avendo delle difficoltà enormi ma che nazionalità è la germania c'è riuscita mi dicono così e noi ci siamo attaccati a loro perché loro hanno risolto dobbiamo dobbiamo fare quindi torneo inserisce un codice su po si ci devono dare questo codice ovviamente magari non lo penso che questo questo codice non lo stremmiamo perché altrimenti c'è la mente no abbiamo c'è prende se ci mani mi raccomando mi raccomando in chat no noi incazzarsi con altre nazionalità con altre persone non incazzarsi va bene però danny dick della miniatta scrive grosso e del piero già subito benissimo questo va bene cioè il taunting elegante va bene però non vediamo l'esempio tanto voglio dire ci siamo già messi in ridicolo pensiamo da solo usato pensate a quello che dicono le altre le altre nazioni di auto we do the lobby no non l'hanno letta se vanno si possono noti in sidonia cazzo la nostra delle richieste di amicizia almeno io l'ho ricevute aspettate mi perdono controllo siamo diventati amici dei tedeschi bellissimo aspetta dobbiamo accettare l'autismo allora aspettate che qui devo togliere tutto giovanni dice ricordiamo che mario italiano noi giochiamo in casa assolutamente sì no in realtà poi hanno aggiunto la promenade di pari promenade di parigi è una pista bellissima però è parigi mi hanno state attenti che potreste ricevere anche infatti mi ha aggiunto move mind che è il capo del team avversario è il codice ci hanno però fermi ci hanno dato il codice potete scrivergli che comunque l'ho aggiunto un chat che lo sto facendo intanto ok il codice ok vediamo se funziona tutto codice ok lo leggo un attimo dove dice impossibile trovare un torneo bene ho chiesto facendo così e quindi dove dobbiamo aggiungerlo sto codice scusate al torneo no ma mi dice no quel codice il codice amico di tom quindi il vod si cancella ovviamente e noi possiamo aggiungere da francesco poi cosa vuol dire allora forse c'è tom e dice che una volta che tu aggiungi tom noi saremo in grado di giocare con loro ma non ho capito come faremo ma forse allora dobbiamo essere amici anche tra di noi amici tra di noi ragazzi al 100 per aggiungiamoci ragazzi ma non si finisce più siamo se non si finisce mai che vi devo dire allora hanno in realtà non dobbiamo aggiungerci tutti con tutti noi dobbiamo tutti aggiungere francesco allora aggiungetemi e così come gli specchi esatta e ve lo scrivo allora io sono già amico di francesco penso si hanno più amico di francesco allora adesso che lo scrivo fatti ok sei donna sta giocando a mario kart 8 di che ci sono i rivals ve lo scrivo sempre in quella chat lì yes e faccio finta che sia per gli altri ma è per voi o che così non seminiamo il panico audio del codice di noi esatto this is my code l'ho scritto ma in realtà per voi ok fate gli ignori noi lo sappiamo tutti questa cosa nella lobby principale vabbè ok sei donna lo scritto sì 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 ok sì sì è vero che si rompe qualcosa sia adesso adesso come se parli un amico allora no aggiungi un amico ci si fai nel profilo nel passiamo la nazionalità dei nemici o no nemici o altre richieste dei nemici allora io me li ho immaginati tedeschi però questo punto è un dubbio no lui è l'admin l'admin di di qualcosa di qualcosa l'admin di rivas mi sa ma move mind no no il team e l'avversario si chiamava team mind ok cibi ce l'ho e vai aspetta che arrivo è fra mandato la richiesta sono mid i was wondering va bene ma non tutti da tutti no solo con sei doni amici solo con sei doni solo con se poi tra di voi dovete odiarvi quindi mi mario viking e fox è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato te l'ho mandato che si gode ce l'hai ma per ora no però forse devo fare l'entro e riesco sì infatti se fai l'entri e riesce se fa il salto no siamo più c'era e moon mind e portoghese dicono si black star sarà molto lunga siamo contro che si forse sembra che si ok via a tutti perfetto ci siamo c'è collezionato come te le caldo facilissimo direi adesso secondo me secondo me dovrete aggiungere anche il capo di quell'arte però questa idea no credo che dovremmo aspettare un invito online a un certo punto forse voglio farlo vedere ma bene dubbi aggiungiamo la modalità online mi dispiace un po che abbiano dato per scontato che fossimo in grado di fare questa cosa e quindi non ce l'hanno spiegata in nessuna meravigliosi è volare che fossimo amici guarda francesco come ha sistemato l'inglese ragazzi ma lo so parlare l'inglese ma in quel momento ero brain tiltato in questo momento siamo passati siamo passati veramente da una situazione audio you do a giu i have to perform to find lobby allora io move mind ce l'opini anche cliccare il blog è il basma ma non ha fatto alcuna lobby ragazzi perché ok quindi diamo la colpa a lui sì sì no perché no in basso in basso c'è scritto allora cliccare su ai ragazzi abbiamo questa idea o questa idea che è una nuova serie per prime video audio inizia così con un rival ma in realtà è tipo è tipo un gioco alla squid game ok cioè il vero rival se non è vincere a mario kart ma cercare di resistere psicologicamente a questa situazione di tensione la qualità di fare cose impossibili e loro valutano come il team si coordinano e fanno effettivamente vincere qualcuno perché ci stanno gaslightando in realtà io penso che per quanto stiamo restando in just chatting pur avendo messo il titolo la categoria mario kart 8 deluxe ci stanno già cominciando a bannare quindi cerchiamo di darci cambiare pure la categoria cambia fossetti cambi come è fatto per come fatta nintendo switch noi dobbiamo stare attenti che gli amici che hanno veri amici no appunto che che non si aggiungano capito alla lobby dal primo settembre su prime rivals nome bellissimo effettivamente però rivali esatto perché siamo in italia comunque in chat voi sapete da qui in poi come possiamo poi tanto quanto noi o io direi che questa prova è fallita e dire che amo facciamo finta che sia che sia saltata la luce in italia il capitano deve affondare con la nave ma io rimango qui francesco affonda ti prego che comunque doveva cominciare alle 18 e un quarto quindi siamo ancora in tempo anche gli organizzatori si stanno facendo qualche domanda perché non mi hanno risposto sì esatto esattamente stanno cercando di capire audio i due che cazzo di capire ragazzi spionaggio spionaggio move mind sarà un canale cercatelo e guardate cosa fanno andate a cercare gli altri dei raios cercate mai scoprite cosa stanno facendo e capiamo almeno d'anticipo come siamo collegati adesso boost nei follower di move mind cercate lo manco fosse one piece suggerisco un'alternativa se non potrebbe trovare un trasformatore di ad amsterdam e abbatterlo e fingere anche lui un blackout come noi ma secondo me andava bene questa roba del torneo che avevi provato a fare fra io che devo dire anche secondo bene perché questi raios fatti di voi non vuoi lo faccio ma non voglio prendere iniziative cioè noi siamo il problema che ho provato a fare una volta aspetta you will be able to join him from your friend list when the lobby setup perché se qualcuno dalla sua friend list che è tipo un utente che lo segue entra in quel lobby senza un codice cioè siamo rovinati allora mi hanno dato due informazioni cruciali i ragazzi del pubblico la prima è che move mind ha dei capelli da super saian non so cosa significhi perché ci sono varie pettinature super saian 1 e 2 li abbiamo all'insù ma con tre abbiamo la chioma sa idonica quindi fateci sapere altro specificare due sono confusi e non sanno cosa fare benissimo ottimo non ho mai fatto una preparazione così chiara e precisa pulita forse ci stanno prendendo in giro però non capisco cosa scrivono in chat quindi è un dubbio però stanno ridendo il dubbio che qualcuno ha scritto il pipo ripo pipo 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 anche se la squadra blu come si chiama move mind portoghesi comunque siamo come scritto come scritto come scritto sono il mind muove ma che mani paolo giovanni paolo e che cazzo ne so magari portoghese c'era scritta la di eresi ma che chiaro ma scusami ora sto cercando di risolvere la di eresi la di eresi sono due puntini del cazzo sulle vocali anche la creazione qualcuno ho creato il rival c'è un piccolo problema che ho appena stremmato il corso a move mind is here yeah yeah you need help yes sir ok go to uuh… wait a second I'll help you uh… thank you so much go to friends and rivals okay okay great you click there and uh… wait a second now you click in my name wait 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 yeah I need ho bisogno di avere una flagga, un seconda ok guarda, ora vedo ok, mi puoi vedere? ok, bravo so, mi un amico e i miei amici ok, ok mi un amico perché sei mio amico e i miei amici in il nome ok, grazie ok, non ho fatto se hai bisogno di qualcosa ok, come facciamo? ok che coglione you are my friend allora cliccate su di me amici avversari e cliccate su di me io spero che tutte le nazioni europee sappiano fare le logiche amici avversari dove? su la Switch o su Mario Kart? su Mario Kart ce l'abbiamo fatto amici avversari? su gioco online giocatore 1 e poi unisciti a amici avversari amici avversari unisciti oh, mi sono aggiunto eh mi sono unito ok che vuol dire togli l'antenna? perché devo togliere l'antenna Guido? perché è assistita, la guida è assistita la devi togliere ohioia ohioia portoghese anche tu? come faccio a togliere l'antenna? da dove la tolgo sta cazzo d'antenna? da fare in game direttamente no, è in... no, 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 aspetta aspetta quando scegli il kart devi schiacciare il punto... devi schiacciare il più quando stai nella scelta carte, ruote e nuvole ok quando schiacci il più sotto velocità, accelerazione e peso ci sono L, Y, R tutte quelle cose lì che sono... L, Y, R perfetto sono velocità assistita devi mettere... togli l'antenna quindi deve esserci un segno di stop ah, ok, voilà, ta, fatto perfetto e R invece è... devi toglierlo non deve essere già ma nessuno le probabilità che in questa lobby arriverà che non è dei rivals è giusto? ok io sono in mezzo a persone vedo chiaramente ci di me la vedo sono io e vogliono rompere la merenda mi è riconosciuto tu chi sei? R, che cosa devo mettere? R, va bene R, l'autoaccelerazione no, non lo voglio si siamo identici ci siamo io sono Midna però vabbè accidiano, mi raccomando è in bocca al lupo eh, per non c'è l'ok da okare siete d'accordo? sì siamo d'accordo non è okabile non è ok non lancerà non lancerà non lancerà scusami sta scegliendo sicuramente le piste sta scegliendo io ho detto ma è smorale ma ci piano no, no, noi dobbiamo fare è bravo, bravo Mike vedi che Mike mi capisci prima ancora che io parli ragazzi ragazzi noi siamo noob c'è la metterò tutta ah, sì tutti una squadre oggetti normali senza CPU io non posso più fare niente sì, perché dobbiamo tutti aspettare lui oh mio Dio il gran premio chi lo sceglie oh Dio, io? no, no è la preferenza no, ci hanno dato un elenco 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 al primo a Parigi dov'è in che capo? Parigi ma io la posso io l'ho messo nel DLC ma io c'è uno DLC ma come no? come è nato? come è nato? ok 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 non scegliete niente anche se non scegliete niente grazie io volevo chiedere scusa a tutti gli spettatori per questo scempio è un'esperienza formativa è un'esperienza e noi tutti i ragazzi dobbiamo sperare che esca oh che culo di merda è vero è vero è vero non dobbiamo andare non abbiamo vinto switch rivals ok ci siamo via Italia contro Porto Gallo oh mio dio oh mio dio vai ragazzi ok dagli spatti di WZ la forza perché non parte la corsa? io gioco senza audio tra l'altro come? proprio ingiocabile senza audio non giocherai senza audio ragazzi ok questa è la promessa ah ragazzi state attenti eh ok io ho già preso 27 muri no 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 io purtroppo sono senza audio oh merda questo è il momento in cui mi ricordo le shock anche non me ne ricordo ma ci avevo le banane è incredibile è incredibile è tutto poter turbare ragazzi a ma è turbare si turbare o di neppure che andiamo bene bene eh però questa è difficile questa mappa non la conosco eh un po' sì no che bastardi hai eh non si dice mai eh c'è qualcuno di noi in una posizione decente io sono quinta io sto sbagliando tutte le curve no tipo e mi raccomando con quei guscia sono dietro di te occhio che sia solo un guscio posso peccare anche un alleato quel ruolo praticamente io faccio schifo per tutta la run poi però mi capita l'oggetto sgravo e arrivo prima va bene ok francesco bastardo no qualcuno mi ha non si dice robin dice dalle origini dubbio che mani io sto spedendo tutte le curve che hanno ucciso non si può morire sono troppo lontane qualcuno di noi è primo io sono lì io sono lì io sono in basso però lo so sono penso in questo momento sono un muro ma che cazzo che caspiterino vuol dire che cretina adesso vinto madonna hai vinto mamma mia ma che merda quanti punti abbiamo fatto bene dai dai posso dire una roba ma adesso è migliore praticamente ho giocato con il lag del della capture card che mi ero scordato di riuscire canale allora le mani era partito adesso che le scuse adesso ciò cosa le mani avanti va le mani avanti ninja 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 sempre dlc l'ultima pista disponibile per i dlc praticamente come ninja sono dei diritti non tutte non tutte non non posso selezionare mi piace sino essendo in tethering dal no no ho sbagliato mannaggia quindi forse francesco ma mi ha premuto il tasto no no che disastro ragazzi no e adesso però sempre ninja secondo me non se ne accorgono non scegliere la mia non scegliere la mia non scegliere la mia oh merda oh merda oh merda nooo non ci credo hai rovinato giochi adesso dobbiamo uscire assurdo ma grazie non uscita per cui giochiamo nel dubbio giochiamo giochiamo nel dubbio giochiamo la giochiamo ragazzi giochiamo ragazzi giochiamo ragazzi giochiamo ragazzi che ci accusano di city ragazzi piuttosto facciamo una gara in più esatto esatto un disastro e giochiamo ragazzi ma c'era un lag incredibile io stavo premendo il tasto per andare a come ninja è solo tutta colpa tua va bene va bene mi assumo tutte le responsabilità si ma c'è il fuoco amico ragazzi cioè si il fatto delle squadre sono su siamo primi secondi e tre ok stavo per tirarvi addosso della roba scusate ma ce lo contesteranno esatto comunque ragazzi non mi sa che c'è il fuoco amico quindi attenzione eh sì ho preso viking ma non me lo segnalava in game tag ma questo è di nuovo ma stanno correndo oppure no forse si sono fermati al fuoco no no stanno correndo se ne staranno dicendo di ogni questo deve aver fatto guarda questo oh caso ma è stata midna no ok però questo percorso è più umano ragazzi ok midna non ti ho preso col guscio rosso meno male e noi per dire che possiamo non colpirci cioè aia che cazzo è stato mi dice ferdi ferdi sei sicuro di quello che dici sono cpu non ci farà abbandonare no 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 c'è move mind o ragazzi si vede basta andare nelle streaming degli altri e spiegare l'accaduto nelle streaming ci staranno scrivendo di ogni cosa proprio no 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 capisco un attimo sai ormai finisci la gara esatto esatto madonna santa quanto mi da fastidio cosa? ah ok niente non mi sta fumando vabbè non mi dite queste cose per la patarosa perché poi vi prendo sul serio vabbè comunque ho vinto però non so se vale no non credo valga ma io sono ultimo però porca miseria vabbè non importa io odio due genti che mi portano a perdere posizioni in maniera così incredibile volete che vado un attimo nel loro discord non farsi colarmi per favore vado un attimo spiegati nel loro discord siamo 12 dobbiamo essere adesso siamo tutti sei contro sei 12 12 quale è la retta pista per l'amor di Dio sbagliamola qual è? la terza la seconda Yoshi circuit circuit circuito Yoshi però perché ce ne sono due di Yoshi eh quindi non è eh dlc? no no non è valle di Yoshi eh la pista circuito di Yoshi circuito di Yoshi eh è l'uovo verde è l'uovo verde è l'uovo verde è l'uovo verde no dai uova vedi che ha sbagliato chi è che ha sbagliato stavolta ti ho premuto una volta e me l'ha premuto due hai visto ma chi è che sta pronosticando chi è che sul canale sta facendo i pronostici in cui io arrivo ultimo ragazzi almeno ci riscolpiamo un po' vedi che è capitato anche a voi chi è quello con la barba che era Francesco che stai dono sono io sono io ragazzi ma hai visto sono sempre gli italiani non è possibile ok ok stavamo anche lì giù dobbiamo chiedere ai rivals che succede con la terza e con la seconda gara ragazzi esatto ora so come trovare di lc lor casomai ci tolgono i punti della seconda gara non devono farlo ho vinto io figura di se devono fatte però se è la regola oh no questa si vince ragazzi questo è certo che si vince io ho qualche figlio no 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 questo si ma ci stava poi alla fine non penso che loro abbiano lavato per tutta la vita quindi ricordiamoci che è beneficenza eh no eh non tutta la si lo scopo è la beneficenza la gloria della vittoria invece è nostra esatto no oh maledetto cazzo c'è uno scoperto si ma ne abbiamo detto di ogni eh subito no ragazzi sì curve sono cattivissime che cattolo che vuole chi ha scelto queste piste i rivals i rivals davvero lo sport hanno sotteggiato in base alle nostre preferenze arriva un posto blu cazzo il guscio blu arriva cazzo il guscio blu arriva cazzo 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 non si dice non si dice rimanere lì non devo dare a fare sempre ho fatto quello che potevo sono quarta cazzarola non vedo niente quanto è difficile giocare senza auto ragazzi ragazzi quanto è difficile giocare se non l'hai mai fatto è quello il vero problema cazzo cazzo sono assurda questa cosa del linguaggio quindi mi raccomando il linguaggio anche dei topic da trattare ma hai visto che la parte allora potremmo parlare di monete volendo vi piacciono? cioè alla fine sono tipo ma io non ne ho neanche una no era finito ma si può avere un oggetto figo anche questo ero primo fino a un certo punto poi secondo ora qua si anch'io anch'io ero primo non è bene non è bene non è bene eh vabbè vabbè eh sì vabbè madonna viking mamma mì mamma mì eh vabbè anche io ma anche tagliando non so dovevo ma che cazzo ma si sono tenuti proiettili ma si sono tenuti proiettili la prestazione veramente in minisca ma io sono io ultimo no sono io ultimo va bene ma chi cazzo quindi sì madonna mi chiede però che mi vengono la prima e seconda immaginate un mondo dove sempre sconicendo che ci frega l'ultima fermi fermi l'ultima importante è l'ultima facciamola bene dimostriamo di aver imparato il donald place non ho idea di cosa voglia dire credo planes sì 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 pianura ciambella 3 mai dlc no no dove è nulla ciambella 3 ok quindi scelgo prima il percorso pianura ciambella premessa bella 3 ok ok ragazzi come si fa a giocare bene a questo gioco dove sto sbagliando chiede un ciò ebbè sì abbiamo sbagliato la console quando abbiamo accettato di come spiegatemi allora devi prendere esercizio fate gli splendidi come fare il controller dopo ogni salto per un busto si si fra fai vibrare controllo è quello che ti permette di arrivare primo esatto di rimanere a parte sulle curve stesse quello a gusci o banane tiene premuto l non lanciarli contro gli avversari se non sei sicuro chiede lì come scudo meno a te va bene ok sì no perché ne stiamo facendo un errore ho venduto alla pista a me così guarda c'è la seconda eh sì ok oh figa finanza nooo oh ragazzi ma scuoto scuoto ok ok no sì va bene io purtroppo dimenticato come si gioca ma ci sono le tappe qui ragazzi ma sta pista fa cagare ma si lo sparo questa rossa no 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 non la storare viking non la storia io non ho peccato nessuno e la rossa non colpisce il primo colpisce quello davanti come siete messi e non io primo primo decima è buono perché io voglio finirlo da anni no figa finanza anche lui no ti prego ci no dai no no cretina merda e ho lasciato andare il posto raga oggi sta pista madonna eh sì scusate 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 la sofferenza della voce no 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 ti giuro mi hanno messo grazie basta fare tardi eh ho sentito sì 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 basta abbastanza abbastanza basta ritardi io sono andato meglio senza terrappare a caso effettivamente però mi hanno colpito di rapa eh sì sì ok chiaramente ok ok ho recuperato però secondo me adesso mi colpisce di tutto e di più ma voi siete riusciti a prendere delle monetine io sono sempre a due raga madonna io sono ottavo troppo veloce e mazzo mazzo chi è primo io io meglio si chiude primi si chiude primi scusate mi stavo per fare una cazzata enorme non ci posso credere vabbè ma perché io sono sensibili alle minacce di mai finita il risaluto con l'amicizia ma ci hanno fatto peggio i portoghesi quindi va bene abbiamo arrivato l'ultima tra terzo e quarto immaginate un pianeta del ragazzi di due ore ragazzi del pubblico ragazzi del pubblico i ragazzi del pubblico abbiamo vinto ma no l'ultima ragazzi ragazzi ascoltatemi un attimo tommy dice che dobbiamo semplicemente rifare adesso la seconda perché è stata assolutamente però volevo sapere io per curiosità dal pubblico che può tornare indietro con lo streaming quanti punti abbiamo fatto tutti e due il team 82 contro 140 senza quella quella lotta cioè senza quella quel percorso di ebo vorrei notare le nostre corone esatto 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 la seconda era la ninja marco marco corri viene a giocare te ne prego fai del ragazzo la carta più easy che cazzo ridi come ti permetti va bene e dobbiamo essere chiari qual è qual è il percorso che dobbiamo scegliere la ninja adesso marco ho fatto che ho visto che cosa marco con la guida assistita ecco perché no che cosa è finito è la prima gara è finito a luigi torcibruco mini ruote che cambia rispetto a roi zander raggio stai facendo no c'è tutto guarda che il non c'è è da sbloccare non so quanto su mario kart ma c'è giocato abbastanza ma tanto tempo fa è molto avanti con tutti amici non sento nessuno adesso rifacciamo la ninja se non ho capito male esatto stavo rifacendo dobbiamo rifare la ninja l'ultima l'ultima pista negli ultimi modelli come ninja esatto e ok poi voglio vedere anche dove sono le altre ok waluigi ci siamo ci siamo come francesco è un ictus ci sono i parziali perché prima quella quella c'è la possibilità di salire sulle scale a sinistra il primo giro guardate dove sono le scale a sinistra e quando è il terzo giro cercate di salire su quelle scale che sono a sinistra quasi all'inizio però dico dove adesso qui praticamente qui a sinistra su delle scale se la curva viene si può salire e la vista dei prossimi e ho fallito ma tra l'altro che è il primo giro no scusami e dici si è difficile se non sai dov'è non sai come se lo fa mel ma stavano seguendo la forza la faccia bene 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 eh peccato peccato quel l'ultimo mi è valso l'ottava posizione io prendo veramente ma vabbè ci posso credere una botta con ogni tot ragazzina dobbiamo fare un'altra con parolaccia libera e quest'epoca assolutamente sono d'accordo non ho mai fatto questa pista anche io potete saltare parecchio si tetti e potete saltare parecchio il problema non è quello no fai una fantasia fatta ragazzi posso mai forse nel posto avrò di esso ma come la cosa cosa succede ho preso che il shock cazzo 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 lui e i suoi uscite ma mescolare mescolatura come le gomme della ferrari bus show mescolatura ma il mio colpito nel sbaglio ma l'importante che l'italiano sono siciliano va bene eh sì sì sei comunque italiano bro dove cazzo ero là va bene va bene viking va bene viking va bene va bene io ho sbagliato io scenderò mai ok sì vabbè ragazzi ragazzi penso sia la mia peggiore corsa ma dopo cambieremo pg e sarà tutto incredibile o almeno altre storie che simpatiche che voglio raccontarmi E' così E' così ifo il numero ha incasso chi è bassa chi è sn giugno vabbè viking ci carri ragazzi è easy o parola sesta la be simpatica ero secondo il tempo anche primo e alla fine quarto per una per una qual cosa che andate in tutte le stream squadra fare la rosa italiane non prima proprio quando io voglio dire questo io voglio dire questo il dominio delle posizioni centrali della classifica è stato determinante per questa storia grazie a tutti i ragazzi abbiamo vinto l'italia abbiamo vinto l'italia c'è un altro torneo è l'unico torneo sono atto squadre questa è la prima finiamo mi faceva che fortissimo in un gioco di macchine ma scherzando ma non è di macchine rtg game rt game aggiunge ora mi aggiungerà si adesso l'altro bordello audio we do the victory sai donna non chiedermelo non lo so però abbiamo vinto chiedi da qualche parte che siano loro il mio ruolo è questo nella squadra però devo dire che come della burocrazia si può dire che midna e viking place è dai determinante hanno scritto nella chat di movemind ragazzi hanno scritto nella chat di movemind o viking è un try harder e poi altre cose in portoghese volevo solo dire però stanno tutti taggando viking l'avversario rosica vuol dire che si è vinto due volte ma scriviamogli Michele and this cox galli 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 ah mio dio sulla mia console dicono che rt game sia forte va bene non quanto noi che abbiamo giocato due ore ieri che non hai mai visto voglio vedere vedo le curve gira io però non ho dichiarato di essermi allenato ah sta giocando marco adesso no da adesso prima giocato fossetti ma io non ho non mi sono allenato quando ci tiene quando ci aveva 10 minuti arrivava lì con la switch accesa allora noi intanto ci alleniamo ma che verso è? gran premio 150 ccc ma come ci alleniamo? ci alleniamo abbiamo detto waluigi e questa roba qui no? ah mi ha raccontato un caldo raga ma perché ci alleniamo? che vuol dire ci alleniamo? unisciti alla lobby di rt game non sono amico e allora diglielo però e io l'ho scritto bro gli hai scritto rt game? ah un due due amici ancora non hanno finito ragazzi ancora non hanno finito ok ah ok allora si 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 allena eh ma non sappiamo ancora le piste si si facciamoci una gara di voi no 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 falla te vai da solo ragazzi è importante ma noi fra di noi possiamo allenarci? cioè tra amici? come si fa ci uniamo non lo so ok si fa 150 simone a 250 è già tanto se parlo inglese correttamente poi le lobby della switch lascia perdere i ragazzi l'importante era fare bella figura e ancora hanno finito robbie esperte in realtà viking e mike l'hanno fatta io perché scusa io sono primo ma è il computer non è forte come i nostri nemici il computer è vero sono nerfate le cpu allora dicono che rt game lo chiamano il drift king e ho capito tra l'altro c'è ancora questa cosa ragazzi che ragazzi ragazzo dice ancora questa cosa che non sono allora è fasta tu puoi invitare qualcuno perché fra mi sa che non puoi invitare perché così è quindi se io rimuovo qualcuno che può invitare poi mandare gli inviti possa va bene no io non no io non posso invitare questa bimbi cambia quasi che l'ho invita io posso accettare cioè anzi vengono accettati in faccio a mandare a mandare la richiesta di scuola ma più che altro per il pubblico nella dashboard nella dashboard del del di twitch dovrebbe esserci delle piccole cose la sbaglio delle piccole cosine esegui e no interruzione pubblicitaria no modalità squadra dove avvia squad stream stream pulsio pilates e aggiungo chi e aggiungi e viking a questo punto e la vespa in realtà non ho nessuno in regia usa la vespa come sabacu va bene proviamo vediamo la vespa che cambia visto metto viking dai vediamo se mi accetta il consiglio è stare in pista allora chi aggiungo se viking non è possibile non ho pronti mi dicono dalla ciotola pronti fai round to twitch aggiungi fossa non mi hanno aggiunto ragazzi quindi mi hai cacciato no ma solo perché ti voleva ti voleva midnight mai mai perché solo per capire se devo riaccettare ok perché mi stavo già usando fossa scusami ce l'ho va sbloccata in qualche modo no no ce l'ho mi fa cagare il coccinello volante non riesco a fare le della pace questa questa ci riesco voglio lo scuterino e rosalinda poi vi state allenando quindi poi dicono che non è un tryhard come quelle piccole rosse se non è giocato l'altro è anche la riga viking dica è invitato la moto giocosa ma è quella che sta usando la giococicletta oppure lo scooter crossing state dicendo tutto il contrario anche a me dicono la giococicletta in realtà poco cicli ricon o scooter cross non mi è arrivato nessuno invito giococicletta va bene non ho scooter impossibile le vite sta facendo entrambe beh però marco così più invito per viking e come mi avevi detto no perché non avevi nessuno che era tanto quello cpu simone ha aperto la porta ha fatto entrare qualcuno secco faccio io ne faccio un altro e vediamo e vediamo mi ha mandato l'area friend rack preferisco mini rosalinda ruote normali ditemi se funziona sto squad street ama la squad senza di parlando a sport ma spesi si aspetta perché io la devo a per attivarla da un attimo fermare marco esco alla mini rosalinda scuola che finisce ormai finisce l'arriva primo visto che ci tieni tanto così per fare un po di show ancora l'invito non è stato accettato da viking poca mobilità con questo portatile gli iscrivete che lo ha dato per favore sei contento marco secondo me siamo sono forti noi facciamo schifo io faccio schifo non è vero non è vero francesco se trova il giusto ci siamo ma non l'ho trovata ancora dai ragazzi io non c'ho l'invito per la stream squad però è io l'ho mandato a viking però ancora non mi ha accettato mandalo mandalo anche a round 2 il mio dashboard risulta accettato a me spunta invito mandato ma non vabbè riesce a mandarlo anche a me se non me lo rimane a roberta lo mando a te posso normali era come vedere il milan degli olandesi con marco alla guida hanno niente ci chiedono di startare la lobby ma non di far partire la gara va bene vado arrivo allora come al solito amici avversari ci siamo ci siamo ci siamo 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 in adesso entrando stentra squad ha risultato che io ho vinto 5 a 0 contro sei doni questa è una cosa ma calcetto posizionato esatto aspen ma devo riavviare il gioco per averlo no perché no la unità anche prima l'hai aggiunto volante no ma non lo vedo rt game non lo vedo tra gli amici ma quindi adesso che porto adesso che porto che si hanno perso sono a casa no a casa di chi poi non ha imparato dei perdenti abito di gianluca perché ci arriviamo presto esatto non per colpa mia rt game ma non mi dico che forse deve uscire dalla modalità online e rientrare e l'ho fatto e ti sei fatto che si è fatto che non c'entri niente proprio il personale vero però un po più di velocità ecco qua adesso lo vedo se lo vedi dai proviamo così ma luigi mi sembrava difficile questo mi quanto ci sei fra fra fa fa che quando sei dentro la lobby che poi certo 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 assolutamente sto scegliando unisciti bene le piste così non facciamo cazzate ce lo scrivono ok e chi lo traduce dall'italiano vabbè adesso adesso che non c'è mai basta non sono abituato ai pezzi di poster hunter e lì col cazzo il mio controller dove è andato cosa dice mi è caduto il controllo ok perché per col cazzo che si capiscono la salenda normale no la giococicletta ok così vediamo anche io la giococicletta yes e poi e poi scelgo tanto si può cambiare durante le ragazze ragazzi non puntate marco si sapevate questa cosa se premete b in curva mentre distate vi chiude la curva più stretta lo so che si è il freno se guarda di rosanino abusare di questo consiglio perché a 150 cc non si deve quasi mai fare esatto ragazzi joshival e mute city di noi ci non c'è niente che pista bisogna scegliere ma di nuovo parigi ok quella di prima no joshival è un'altra che mi piace molto di più e si chiama valle di joshi palle di joshi perfetto in quale ha senso la prima è palle di joshi invece quella di f 0 qui adesso non ci siamo ci siamo però tanto decide il creatore di farò vedere si chiama ragazzi sì esatto ha ragione molto bene così palle di joshi britannici ci dicono siamo contro i britannici contro gli u.k. si aia mate gli u.k. sono forti e non lo so ci prendono per in giro pure loro che dicono vabbè it's mutual credo aspettiamo altri giocatori gli ho detto così a caso beh significa che non li consideri tali è un'ottima visita euro vision parte 2 allora raga durante il 2021 gli inglesi sono sempre arrivati secondi contro gli italiani in qualsiasi cosa quindi vediamo stanno dando dei mafiosi per la raga che giochiamo c'è subito un video dove si va a sinistra e c'è un ponte di legno che ancora sulla sinistra della sinistra grazie minchia se passate da lì è molto meglio delle altre senti io me la gioco come tutto a sinistra giusto tutto a sinistra c'è un ponte che non è facilissimo da simone sinistra tutto sinistra io qua sento d'ordi calippone te lo dico molto bene molto bene cioè in pratica questo consiglio ha solo due conseguenze o il culo di fuori di riuscirà a seguirlo su un angolo e fermarci che non è schifo ragazzi se non l'avete mai fatto fate il percorso per come sapete perché rischiate di ha ragione ho ragione ha ragione viking viking fallo viking sei saggio è giusto così vedo come me la sento ok almeno sapete che c'è raga non date letta alle chat tossiche noi facciamo i meno tossici tranquilli credo non lo so che vuoi dire che è successo no mi stanno scrivendo in chat che in tutti gli altri stream squad di chi abbiamo contro ci danno dei mafiosi ci devono mangiare pizza ma sì ma siamo nel chilling noi abbiamo viking ma che cazzo ce ne frega paura di noi fa tanto anni 90 questa cosa di dare del mafioso no cioè poi ragazzi lo sai io lo dico subito ma c'è un ciattone quello in basso a destra è un ciattone se continuano gli ammazziamo la famiglia il problema c'è infatti la famiglia mi dissocio di ci si scherza c'è stato un personaggio che è partito era una battuta auto ironica sì sì io penso francesco che arriverà sai doni intanto qui qui c'è il pronostico per quello che farà mottura quindi se qualcuno vuole venire a votare e prendere dei punti per poi fare il gong guarda guarda che michele nella lobby sta spiegando agli altri che scherzavamo che non era nostra intenzione offenderli bravo è proprio diplomatico ci siamo divisi dallo storico sto specchiando per curarlo ma te sei rientrato e certo sono normali questi tempi morti scusate dicendo loro di aspettare il loro via che è il loro via non arriva ma perché è una è una roba tutta psicologica perché eravamo sul pezzo arrivati bene stanno facendo spilacciare ci stanno facendo deconcentrare apposta ma no ma noi va bene noi tanto ci abbiamo mottura qua ma ci va bene un cae va bene ok ma noi come corre adesso scusa a mi dammi delle pillole di game plan le pillole di game plan è che lui fa diciamo drift molto più stretti molto più diciamo aggressivi aggressivi esatto ma io non ho mai giocato con quasi alcuna ho giocato una volta con il kart poi scelto quello mi è piaciuto che io non posso dire di spesso all'altro usare la cosa quindi drifti appena senti la curva o dopo un po allora dipende ovviamente da quanto è stretta e lontana nel senso gli angoli retti puoi driftarli ma di cui c'era driftare almeno 20 metri prima cioè perché tanto praticamente ricordati ai tre di lasciare l'analogico libero il contrastarlo col agevolarlo e ti va più stretto più in resistenza si serve a volte per raggiungere certi però non c'è più lo snaking giusto quella roba che c'era su uno su ds l'antonio non l'ho mai vista stare da destra a sinistra non c'è più in chat e scrivono quanto cazzo siamo italiani tutti o la vesco io non ce l'ho infatti non ho preso no no marco ha proprio preso la vesca bravi bravi normis mi sta parlando adesso no no lo snaking non c'è fatto esattamente come c'era una volta non c'è non c'è no ma ha senso ok quindi quindi dritto appena vedo la curva ma quanto gridi sui tre livelli di busta non troppo non allora ascoltami francesco è anche stato punto da una vespa tra l'altro ricordati il terzo livello di busta lo puoi usare quasi mai in rarissimi casi la cosa migliore che puoi fare è cercare di azzeccare il secondo appena scatta per ottenere di meglio è meglio lasciare quando già ce l'hai andare un po' più sul sicuro che rischiarti il livello ulteriore e poi bruciartelo oppure farlo in uscita di curva che vai contro un muretto trovo ingiusto che però ci stiano tenendo qui a non fare nulla gli sostituiamo le gomme coi mattoni io voto penalità per gli inglesi anch'io e di chi è la barca? ma in che senso? è noi è noi è Luca loro la stanno gestendo è come il paglio di siena no? stanno aspettando che noi ci si deconcentri ragazzi ma siamo uomini o ragazzini? uomini donne ragazzini esatto aspetta in che senso? no nel senso che noi ci facciamo scoraggiare da questi mezzucci ah ok ok e invece si e invece si ok sei scoraggiato adesso assolutamente si no dai tirati su fai due flessioni no hai finito parca due punti la stessa io faccio un attimo un po' di così theory crafting insieme a voi ok ma in teoria ma in teoria quanto ha di velocità a parte che io ho uno schermo solo quindi non posso neanche vedere il gioco senza me ok io mi vedo dentro il gioco vabbè ma che sono cose da scrivere cosa? non vedo quanto ha di velocità lo scooter crossing ne ha tanta devi schiacciare il più per vedere le statistiche no yes ma c'è la mia cam sopra scusami l'hai appena detto perdonami quindi dicevo la velocità è tanta perché secondo me in una gara del genere dove facciamo tutti tendenzialmente schifo la velocità deve essere al massimo no l'accelerazione meglio la manovrabilità molto meglio la manovrabilità fosse mai fra esatto l'accelerazione l'accelerazione e manovrabilità privilegiare ok se conosci già bene le traiettorie e così ne fai più veloce non ti fermi se non ti fermi esatto se invece prendi il muro in un secondo you can start the race idonea come iniziare ok how do we do the start the race how do we do the race I don't know ok ragazzi a me non dà niente Yoshi Valley e l'altro chi è che il capo della lobby no Efeo se tu hai gioinato qualcuno la stai scegliendo? no 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 nicchia mi son cacato io non vedo niente il capo lobby è il tizio inglese no? ho detto nicchia mi son sbagato the lobby boss is not chi deve far partire la gara? noi o loro? loro? allora glielo scrivo sì sì chi ha creato la lobby ragazzi? eh quindi era di game eh vabbè ma sono inglesi glielo dobbiamo spiegare più volte gli sta venendo sonno mi sto addormentando no a me mi sto addormentando cioè c'è la frase o sonno? uso giroscopio la sta scegliendo il tizio inglese ma sta aspettando qualcosa l'ispirazione ispirazione sì sta aspettando che il tè è pronto dimmi cominciamo fagli pressione cominciamo 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 tossici ragazzi io ho un utente in chat tossici 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 nonostante ho detto che non so giocare a Mario Kart risponde a la velocità importante sai domani che dici? come se io avessi capito cioè un precedente sul quale basare stai dicendo delle inesattezze non da te imperdonabili che stai dicendo? sai domani vergognati ho fatto due gare qui quindi accelerazione è più importante sai domani ma no cosa stai dicendo? oh ma i pronostri oh ci siamo ci siamo ci siamo signori pronti allora la prima no ricordateci il Yoshi il circuito Yoshi Valle no palle di Yoshi ragazzi vi prego mi rispondete DLC eccola qua no non è DLC è la foglia ok l'ultima della foglia intendo 64 si no ma perché qualcuno ha preso sono loro colpa loro colpa loro è quello in cui non vedi dove sei questa mi sa hanno sbagliato a scegliere queste cose è la foglia la foglia circuito foglia foglia Michele foglia non sbagliare così possiamo dai Michele Luzzo dai Michele Luzzo no 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 Michele Animal Crossing Animal Crossing la foglia è quella ragazzi ma no no il circuito foglia la foglia hai ragione è la foglia di Mario ecco diciamo così no 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 ci posso il dramma cancellare posso crederci uscire cancellare ma che sfiga madonna ma si può prima non è la seconda usciamo ragazzi certo che usciamo si esce premo più uscire 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 noi usciamo che bella però quella di Animal Crossing uscire 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 abbandona abbandona ok 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 ma Dio santo ma ditemi la foglia la foglia marrone la foglia marrone la foglia marrone Michele aspetami qui è scazzato qui è scazzato qui è scazzato allora poca miseria va bene tutto adesso che tu sei il super esperto di The Air Souls ma quando uno dice la foglia parlando di Super Mario pensa a quello non altro ma poi non è che deve cioè c'è scritto Animal Crossing non è il circuito di Yoshi si non dobbiamo confusissimo ero disperato non dobbiamo perdere ai figli una coppa al volo i circuiti Mike si dividono in appunto un simbolino tipo quello della foglia della stella della banana eccetera Simone posso fare il capitano perdonami ci sono Simone Simone conosci conosci i percorsi tu sai associare i percorsi alla coppa? no qualcuno in cui nella nostra coppa tutti bisogna scelgare no si cercano durante la ricerca solo quello che effettivamente lo trova per primo no perché se poi tu non selezioni esatto ti metti il caso ma devi passare a scendere lo giusto ma non è difficile è difficilissimo se qualcuno lo trova per primo può dire ragazzi è nella coppa tazzo è una foglia l'abbiamo detto 25 ragazzi la confusione di Mike la confusione di Mike è comprensibile andiamo avanti e basta non è successo niente via andiamo ma poi è una tecnica così facciamo incazzare gli inglesi giocano peggio eh ma ci squalificano Roberta ma non l'abbiamo fatta apposta possiamo farlo una volta poi dopo di che ora mi dite la foglia dov'era giù destra la foglia marrone però la foglia marrone quella che ti trasforma nella quella della tanuki suite esatto la tanuki suite mi raccomando e che te odi suite 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 però una domanda mamma mia ma se uno non sceglie perché il rating game non sta facendo partire perché lui però è voglia ma se uno non sceglie e viene il punto di domanda si sceglie fra gli altri cioè se uno non riesce no casuale casuale fra 45 piste eh sì oh cazzo vedo proprio di sì che ansia perché sento inglesi eh cosa dove mi si è attivato un twitch sotto mi sa occhio perché sento inglesi è bellissimo inizio a sentire le voci ok sì ho tolto loud sì era una bagnata mic of the desert allora c'è una fila vale di Yoshi l'ho visto l'ho visto è questa ok vedete che state parlando tutti insieme vale di Yoshi vai io cerco già cerco già le altre altre raga così sono tranquilla oh che tensione uff è la cosa che è l'uniforme scegliere la pista che corre esatto esatto ok ok ci siamo ragazzi adesso è impossibile sbagliare ok ma è ancora possibile perdere quindi attenzione non lo facciamo ma è perché quando ne sbaglia uno su dodici arriva sempre lì ma guarda che è d'assurdo veramente è come la fetta di pane con la nutella ti cade dal lato della nutella è così ragazzi ragazzi dobbiamo impegnarci ma perché a me diciottesimo non capito ma come siamo dodici ok dai dai sarà sarà che è molto meglio partire dietro Marco in prima posizione raccoglie subito un bonus decide di prendere il percorso sulla sinistra non dopo aver sbagliato no bastardi che sfiga mai demoralizzarti anche contro gli ocetti aiuto io sono ultimo credo questi sono incazzati i neri ragazzi si e fanno bene abbiamo fatto un errore ma potrebbero anche perdonarci oppure no ok 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 devo lasciarlo prima madonna santa sono ultimo addirittura ma perché? no non si può dire vai a madonna santa però non ripetete se no vedi lì c'era lì c'era quello la bambu occhi alla banana lo strumento per nabil questa non basatevi su quella roba è un labirinto quindi in realtà poi conta quando vi ritrovate sul percorso no ragazzi ma sono veramente uno scarso occhi alla banana basta basta sì sì basta sì io apprezzo che voi siete così puliti però ragazzi ve lo giuro oh sì ve lo giuro il primo mi potete rispondere ragazzi oh sono quarto io vinto quinto ma perché? fanciullo fanciullo ok adesso c'hai sei monete ma qui sulla sinistra ancora ancora qui ho fatto schifo questo è il turbo a manetta mamma mia no mi ha fregato che cazzo stavi per fare stai buttando giù dal ponte non so cosa direvi che è successo? ho fatto schifo un dinosauro penso che Mario Kart non sia il gioco per me no di odato odato grande però ho tirato il coso per rompere hai tirato il guscio blu? eh sì mi avete detto che non siete primi no dai vabbè ha fatto schifo sta gara undicesimo settima molto male molto male molto male molto male bravo Simone cosa? cosa era questo? is entirely possible? bravo Simone bravo Simone intanto sono il doppio scusatemi ragazzi mi stanno bussando e forse c'è un po' di casino nella tua stanza di hotel vabbè ma sono le sette non è che la gente dorme i settari possible ok il prossimo è attenzione allora Mute City è quella di F0 F0 allora logo simbolo logo lo vetto lo vetto lo vetto l'uovo di Yoshi l'ultima dell'uovo di Yoshi ok quindi Mute City l'ultima dell'uovo di Yoshi posso dire comunque che tutta questa performance incredibile di Marco non si è vista che cazzo inviderei inviderei i miei moderatori a fare un altro un altro pronostico meglio di te sicuramente non hai neanche finito una pizza cioè io urcano scusa ho visto proprio quella lì che sono stato sfortunato ma ragazzi ha vinto uno che si chiamava Chad è top allora era impossibile per forza impossibile pulita 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 ci siamo giocano veramente bene se non altro eh sono bravi si vede vabbè abbiamo sbagliato a Mario Kart da quando è uscito abbiamo sbagliato tanto anche noi abbiamo sbagliato no no è che noi ci divertiamo falsa partenza ti stai divertendoci chipe non puoi ma io è fatta è fatta è fatta sono primo sono primo io come anche tu ma come funziona non funziona così il gioco delle macchine no se vuoi possiamo fare segume è difficilissimo si ah ma questa è bellissima questa la so eh si madonna yes questa è una pista incredibile ma come cazzo funzionano i booster ma come cazzo funzionano i booster cazzo malissimo cazzo allora sono dei moschi io tieni lussi fra hai visto il guscio rosso ero io ti ha evitato ok non dovrei colpire simo tipo adesso sarebbe una gran cosa sarebbe gradito sarebbe gradito pesa una banana la banana è ricca di potassio è proprio vero infatti è buona ne ho pensato è buona è buona è buona questo è un'altra quindi è colpita dai secondo dai secondo dai resisti portaci a casa ottimo così madonna santa sono non no che è successo ok decimo per me è un grande risultato eh ragazzi non colpire biking non colpire biking ok miseria ok ecco il chad è allucinante è un chad eh sì più no sabbaku hai sprecato no ma è questo bravo sabbaku bravo sabbaku bravo sabbaku lo so lo so devo resistere sono dietro di te ti proteggo ok amicomini che posizioni siete voi io sono jolly cooperation mannaggia la di sé vai 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 so cross link andescent vai vai so cross link è sempre lì ah sì c'ha de primo di però dai va bene secondo il terzo che ho salvato esatto come fate ragazzi come fate no ok c'è il blu ragazzi mi ha preso ovviamente c'è il buscio blu no 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 non ero primo ma guarda che non ti ho preso io questa roba brutta 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 ma perché ma non ti ho preso io io ti ho superato poi il buscio non ha preso tutte e due io ti ho superato poi cazzo ah ma abbiamo fatto quello blocco si 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 schifo Italia ultimo che è in tale santa madonna diciamolo siamo là stripping schifo Italia siamo là ragazzi la chat l'ha visto la chat l'ha visto io non ho preso sabaco io l'avevo superato per forza di cose però poi il buscio blu ha preso tutte e due e parigi di nuovo ragazzi l'avete visto è stato in buscio dlc fungo giallo ok parigi mai fatto parigi si l'abbiamo fatta prima esatto io non ce l'ho ma cosa succede andiamo in user bracket senigata senigata stai attento mi togliete il vip a senigata per favore cioè è veramente una persona piccola proprio cioè proprio speech io sono esperti di Mario Cassio dimmi qualcosa con gli agenti e fanno stress e sicuro è l'unica cosa che non giustica stanno facendo una tecnica ultimo se mi fate parlare allora cambiano i percorsi vai stavamo giocando bene stavamo giocando bene scrivono uno di loro va ultimo e prende il guscio e gli altri prendono strumento che bossano gustano il primo il secondo il terzo è il mio ruolo come hai già imparato questo ruolo anche perché il gioco di default non mi fa colpire quelli della mia squadra quindi io non ti ho preso è vero mi hai preso non mi hai preso non ci posso colpire non ci posso colpire non ci posso colpire maledetto ci ho preso il guido il maledetto esatto ma quella non è che della pista è qua no è la pista è là vabbè ma non cominciamo così amici mi devo concentrare ragazzi la prima cosa è andare nella pista e non fuori esatto poi c'è tutto il resto però però riesce a fare questa cosa ci sei vi assicuro ma siamo tutti qua ragazzi ma cosa è la curva scarsi alla fila scarsi sono prima oh mio dio grande robic guardo eh ho paura poche non è vero no bastardo disastro disastro tiè coglione no bastardi no no questo raga sono setti ma non importa che cazzo sto facendo raga sono ultima hai lasciato perdere proprio non toccarmi ho venuto bello Roberta come sei messa ultima ragazzi ma dalla chat dicono che i nostri gusci non possono colpire la vicenda ma è appena successo no il blu può comunque colpire il primo su no no ma che dici ma cosa dici si o no l'ho usato cosa chi ma perché non prendo posizioni nonostante tutto ragazzi il guscio blu io adesso devi girare l'altra parte il guscio blu prende il primo che c'è l'impro team ah ok ok ah quindi si può usare a priori eh sì a quanto pare sì ma io ho una roba tipo che mi dà tutti gli strumenti ah cazzo bellissimo usali tutti appena proprio appena sei in vetta il saltino qualsiasi sentimento ok ragazzi fatto sono quinto ragazzi fatto io sono terza dai 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 è ok niente 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 no cazzo cazzo questa è ma strategia noi non abbiamo però eh lo so guarda come ci hanno seccato con tutti gli strumenti adesso qua malissimo qui si sono tenuti tutto quanto avete visto praticamente non stanno soltanto giocare stanno pianificando che mi piace di giocare malissimo malissimo ragazzi abbiamo fatto quello che potevano se loro usano strategie è finita io noi pensavamo che era un volemosebbene quanto una casa allora questo non la conoscevo non la conoscevo allora ma poi cambia durante la pista allora non l'ho mai fatto se possiamo parlare un attimo eh vai vai ha super senso quale è quello che fanno loro avevano palesemente un tizio che rimaneva ultimo nel mio caso io faccio schifo a farle ah fa prima va bene stai ultimo stai ultimo va bene circuito di Todd è sempre nel DLC fungo giallo qual è questa DLC fungo giallo circuito di Todd eh grazie ok grazie vogliamo provare a fare così fra eh sì a me piace tanto ormai cosa abbiamo da perdere ma giochiamo per divertirci siamo l'ultima perso che ce ne è impossibile tanto ormai l'abbiamo persa questa però però davvero l'abbiamo vinta proviamo sì però però per la terza partita per la terza manche si potrebbe pensare ma dico adesso proviamola che abbiamo da perdere proviamola dai dai proviamo questa non è la terza manche questa è l'ultima è l'ultima sì 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 è l'ultima sentite il mio classo il mio più 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 ah no tra due giorni escono le piste questa è sempre la presenza comoda adesso ho un fungo e me ne frego ok bravo lo uso ma poi vado chill non prendo il busto perfetto non importa benissimo e ora che cosa mi scappò la stella è vero con la stella non ci faccio niente a parte tagliare va bene ma non ci scelte ma non ci scelte ma non ci sono ma non ci sono ma non ci sono ma non ci sono il fungo per un solo vestire ma per è così puniti ma si ma che serve non mi fa andare veloce nei posti non serve niente alla stella ti va fare fuori pista fighi vabbè è la prima stella che ho mai la stella ti serve a non rallentare quando per esempio si è anche a guscio la scattia ah ok è buono all'interesti invece non rallenti se cusci ma ho più provato raggiungo no figlio ho più probabilità di prendere il guscio da ultimo sì santo dio mi arrivano solo stelle raga il fungo era ancora più importante del guscio il fungo ne prende tutta la loro squadra e nessuno del guscio continuo a cercare di rimanere ultimo per avere il guscio ma dai ma che spiega continua ma non funziona la testa va bene ma guarda guarda ma che se non arrivo l'ultimo in quella di prima che è successo che è successo ma hai lanciato un guscio quanto una casa sono arrivato ultimo ero dietro di te mannaggia e forse allora mi ha detto di lanciarlo mi fa il pilota qua mi dice l'ancio guardate però santo guardare dietro come fa a guardare i dicono si non mi dicono che ti dicono non devo stare ultimo ma tipo tra l'ottavo e il nono perché siamo da ultimo mi danno solo gli aiuti per recuperare ma era mortura che giocava erano io ero io vabbè dai dai te la buono ma no ma è stato fossette di ritirarlo all'indietro mi fa tira indietro vabbè dai ho detto tira 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 c'avevi tre cusci rossi che li tiro indietro è finita davanti aspettiamo altri giocatori e intanto lo prendevi che cosa tira indietro e non c'era più nessuno davanti allora è sempre colpa mia ma dai dicono che in questo Mario Kart cosa ha detto Fossetti ma scusate lo ha detto lui di tirare ho detto tira indietro ma resente indietro sono sul traguardo giustamente nella mia chat dicono va bene giocare con simpatia ma manco a fare le cacate veramente è incredibile ma questa cottura ragazzi mi piacerebbe dire una cosa sul videogioco al quale stiamo giocando uh dici tutto grazie dicono che gli strumenti non dipendano dall'ultimo posto o meno ma da quanto sei distante dal primo che è più o meno la stessa cosa scusami ho una proposta ma da quanto non sei primo vuol dire che no da quanto sei distante dal primo che è più ultimo sei dovresti essere ultimo ma non trovo se sei dodicesimo ti dà solo gli aiuti si si è vero capito è vero era una cosa se non stavo dicendo una cagata stavo cercando si 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 no cerchiamo di analizzare la frase ma effettivamente non there's no ma qui ma ragazzi ma giochiamo che ce ne frega giochiamo e basta ma giochiamo che se ne frega dopo aver buttato un guscio dietro al compagno adesso si aspetta il prossimo team cosa? fai sedere fossa Marco non mi piace non è luce questo mood del giochiamo e basta voglio vincere ma tanto è una pippa quell'altro fai sedere fossa ma obiettivamente si è comportato meglio in gara vedi tu si è comportato meglio in gara cioè vedi tu ah io poi l'infamata finale perché boh sarà non lo so ma non volevo Gianluca ma si è comportato meglio in gara è arrivato anche ultimo tu non hai neanche finito una pista ti ricordo non hai neanche tagliato ma tu non devi andare a fare gli streaming di Red Bull vattene vattene vado a un concerto tra un'ora oh quale? a che concerto vai? a che concerto vai? può darsi che abbia colpito Sabato pensando che non lo colpissi può darsi a sto senti che cosa bisogna fare aspettare e allenarsi chi ci tocca? chi ci tocca? eh boh non si sa ancora fammi farlo l'alimentino fammi farlo l'alimentino dai fattimi dire giusto questa cosa ah il controller qua si scarica buono ragazzi anche perché non ne ho altri oh no hai altri controlli? ma lascialo ah collegalo per mettere sulla switch che non è questa chiedi reception come chiedi reception? la respira allora ragazzi guarda così così è il giusto derapato controllo i gusci rossi seguono cioè i gusci rossi non hanno fuoco amico ma tirati indietro i gusci rossi non hanno e quindi quindi diventano come dei gusci verdi ok se tirate all'indietro la roba state attenti ok non come ha fatto Mottura no vabbè ma gliel'ho fatta anch'io non è quello che non mi ricordo che ho preso ho preso forse Raiden ragazzi se stanno dicendo scusate non voi se no mi muto scusate ragazzi se stanno dicendo delle cose gravemente razziste ora non per dire ma fate le clip così li squalificano guarda che non è male come tecnica essere talmente corretti e paladini che abbiamo le prove che sono dei razzisti quindi se sta succedendo qualcosa del genere dai ed i clip forza con le clip una dopo l'altra scaliamo questa classifica a suon di squalifiche io la butto lì fate voi tanto da noi non uscirà nessuna frase a parte bevete il tè can you set up a lobby for your third match please just a normal game in the friends and rivals 150 cc più normal items ok niente a un certo punto devi avere una responsabilità sì 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 loro sono più scarsi noi organizzano la lobby perfetto esatto allora potete rispondere gli ok e perdonatemi col setup che ora non ci riesco e adesso how do we do adesso how do we do davvero però momento how do we do momento e poi dai hashtag è sbagliato ma non è che sia proprio inglese possiamo ancora vincere o giochiamo per divertirci ora cioè no vincere 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 tanto che siamo ancora in gara esatto mickey i primi due passano di ogni girone quindi possiamo sicuramente ancora vincere basta fare più punti non penso di sentire altro gli altri come stanno messi non lo so anche perché non sappiamo che abbiamo nel girone ma ho fatto ragazzi non ci vuole nulla bravissimo che non è un giro in inghilterra portogallo e io non ho visto gli schemi in precedenza non so se li hanno diffusi una amica mike sono intanto io sì ok quindi ho fatto tutto giusto sì arrivo tra una questa è buona e devo mandare l'amicizia al tipo ma se no mi danno il friend su scusami tu hai fatto una lobby per chi per ora per tutti per i rivals in occasione del twitch Mario Kartotto ho eseguito della lobby ok stanno ancora facendo stanno ancora gareggiando è incredibile il rivals vuole non farci giocare esatto dobbiamo perdere quanto più tempo possibile in questa scala ragazzi posso fare finta che abbiamo fatto la lobby ma non l'abbiamo fatta beh se ci vuole poco è la serie fare subito non lo so non ci siamo neanche tutti ci osservano in chat in chat ci dicono ora siete probabilmente secondi a pari punti con chi ha vinto l'altra bene ok bene ah ma perché abbiamo stracciato gli altri perché avete presente giocare per divertirsi neanche per il tempo allora ma che succede se siamo bravi e torniamo in finale in finale con quei mostri eh eh vabbè arriviamo secondi allora in realtà qui vorrei dirvi una cosa mi stanno dicendo dalla chat che alcuni di loro sono talmente tossici che io gli ho detto raga scaricate le clip così li facciamo squalificare perché sono davvero tossici no aspettate aspettate raccontami i streamer allora stanno inneggiando dei nostri politici italiani di altri tempi da quello che mi hanno detto un po' nostalgici mi hanno scritto così quindi io gli ho detto ragazzi scaricate le clip scaricate le clip Francesco che ha sentito cazzo e ha detto scusato e io mi faccio e io mi faccio dei problemi ragazzi però scusate scusate fatemi subentrare come co-capitano cerchiamo di essere i sofisticati quali siamo e non i provincialotti che stanno esatto quello che pensavo è vinciamo facendoli squalificare perché stanno tirando giù le clip i miei quindi ho detto boh queste live quindi basta così anche noi però con eleganza diciamo viva l'Inghilterra massimo rispetto per la rosa con segno del queen hanno guidato meglio alla grande hanno guidato meglio andrà meglio la prossima volta è vero e i grandi vorrei fare amicizia con loro per farmi insegnare il Mario Kart bravo bravo ottimo amici è vero è così che si fa è così che si fa ragazzi ma come cucinano la Sheffers Pie loro madonna che buona ragazzi la pasta al lattino buonissima maccaroni in cisto lo vogliamo dire che è meglio pasta al lattino che è veramente gustosa ragazzi no diciamolo immaginando intanto in questa bellissima conversazione amichevole cichime che sta scaricando le clip non può percepire l'ironia quindi la buonissima pasta in scatola io riproserei la matriciana perché secondo me la pasta in scatola la supera e di gran lunga diciamo che in una corsa di Mario Kart la pasta in scatola arriva prima e dodicesima la matriciana ma perché vogliamo mettere la carbonara all'inglese eccezionale ma la carbonara inglese è strabona ragazzi è una cosa provinciale il credere che la carbonara in italia si faccia meglio che da altre parti la paizza come la fanno loro sì è così la paizza perché la paizza ma fine che la pronunce paizza e comunque la paizza capito ragazzi io voglio dire questo beati popoli che non hanno il bidet è vero questo è troppo con questo è vero è proprio un elemento in meno da pulire quando pulisci il bagno capito come che schifo madonna ma caca per divertirti ma caca da provinciali francesco noi siamo signorosi caca competitivo mostura si mette lì mi pulisco è importantissimo cioè è fondamentale ragazzi il pronostico cancellatelo perché la prossima la vuole fare ancora Marco e poi me ne vado allora posso chiedere una cosa aspetta aspetta dovevo fare un'amicizia da Sara eh una certa Sara con l'H dovrebbe avermi mandato una mia ricetta d'amicizia pronuncia perfetta a te a capitano a me è tutto vero ok mi sta scrivendo Sara in privato mi stessi raccontando tipo di una conquista oh ma che cosa ti stai conoscuto ma Sara che ok 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 Sara con l'H ricordiamo un build noob una build noob sì ancora più noob due punti perché credo che quella noob fosse il wiggler ma non funziona con me quindi una build secondo me guarda che le curve le chiedono meglio con la vespa mi scappi io non scoppio a ridere sapete soltanto che adesso stanno scrivendo anche le coppie oh no sto male stanno scrivendo quello con la foglia quello con la foglia mi raccomando sappiamo la foglia marrone dove la cucinella in due gare ha sbagliato due volte cucinello volante come il team italian due gare ha sbagliato in due cose eh sì questi maledetti che sbagliano mamma mia incredibile queste persone Yoshi coccinella ruota normale va bene proviamo sai dove hai aggiunta sta tipa possiamo unirci a te certo che l'ho aggiunta ma si sanno già le piste no le hanno appena cancellate hanno detto wrong maps sorry niente rag però devono mettercela senza aiuti no ha invite quindi non lo devo fare io no receive receive dovresti ricevere in inglese receive vuol dire ricevere mentre Sara è un nome inglese che fantastico ok grazie Andrea you're welcome Francesco Francesco saluta è fatta ragazzi vai vai ma no shush non lo fare fermati ti prego amici avversari sai ma sappiamo adesso contro chi siamo scusatemi sono perso la nazionalità non lo sappiamo ancora contro esatto e basta ragazzi cercate il nickname Sara sicuramente non troverete tanti canali no sai donia sai donia dai you are that wrong map entriamo da Saito vediamo un po' siamo già dentro Saito o no siete già dentro Saito siamo già dentro Saito sì ecco cos'era questa sensazione beh dovrebbe dirlo lui dovrebbe dirlo lui secondo me è entrato qualcuno e loro francesco fra dicono olanda dicono sono olandesi tu sei lì ma sono olandesi ma sono qui quindi sono nel tuo hotel olanda alla fine è piccola ma posso probabilmente li sentirai gridare dalla stanza accanto perché l'olanda quanto vuoi che sia 20 metri quadri raga ho appena letto la miniera di Wario io la odio no no io perfetta l'ho santo dio hanno scritto qualcosa ragazzi aspetta 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 hanno le mappe è in inglese ne so mezza io traduco oh Tommy Sear ragazzi c'è Tom è entrato qualcuno no ok no aspetta fra fra ti ha chiesto se 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 siamo dentro se voi ci raggiungete noi siamo dentro la lobby ma no ci siamo anche noi mancano gli altri dicono probabilmente che non trovano Francesco tra gli amici che non ha accettato non so che fare ma Tom che non si fida eh sì raga dopo aver sbagliato sei volte sì sì no infatti dico vabbè dai ci sta guarda è molto dura che si guarda a tutte le ragioni per non fidarsi è impossibile che non mi vedano e sono entrati loro no ma magari eccola lì questa è quella di Wario ma magari un problema di lobby tipo esce e rientra e tutto a posto hanno scritto altro Tom hi hey hello you haven't accepted the friend request Sardonia yeah I have I have in live I'll try and get more of them to Agi quella che avevano fatto prima ragazzi lo faccio in live mi hanno visto accettare la richiesta in live no forse un problema di lobby online guardate Sara è online la vedo ma tra un po' ti diranno chiude e riapri la lobby secondo me sarà un problema di internet ma non è che hai qualche opzione per cui non ti vedono a te no no perché voi mi vedete certo Tom però che non sa l'inglese esatto esatto dubidude ma no ma è che ci nerfiamo in questi eventi un po' misti no? in cui ci sono sia italiani che inglesi la senti Marco? sì 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 Marco se la senti calda ce la presento Marco la sta già facendo i suoi edifici ha detto che arriva primo Marco ha detto è la Dragon Sea la Sunshine è bellissima invece ragazzi ragazzi hey again uh I've just told their whole team to send you friend requests oh ok oh ok until one of them considero ok ok magari si chiama mei ma no 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 nel senso di coho miele cobrano e mottura qua stiamo origine cinese mai comunque non ero io è stato simone di un po ma nonostante mi mi dispiace attenzione è arrivata una forse sarà io ho accettato tutti amici salutiamo sì un saluto è bello vederti qui bocca al pupo lo sale non risponde maleducata ma ci piano mi raccomando sarà anche meno come se la tira scriviamole sono arrivati tutti gli altri inglesi guarda lì ciao ma come gli inglesi ma sono olandesi scusate olandesi giusto giusto sono tutti nell'hotel di fra il resto degli inglesi che non hanno giocato prima ecco manca l'ultimo vabbè ma che fighi eccoci guarda che carini nessuno di loro abbia l'avatar predefinito è un problema nessuno di loro abbia l'avatar predefinito è un problema quei due rossi allora ragazzi io premo a 150 cc squadre sfida squadre oggetti normali ormai senza cpu giusti i veicoli quattro corse guida non assistita guida non c'è siamo tutti d'accordo minieratola nella triforce cap ma tanto sono tutti i fatti lo fanno vedere le squadre ragazzi ma poi vedete una schermata strana no vediamo niente o no guarda che le cose di hamster da musale dopo no 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 fatti concentrare un attimo però aspetta è una cosa importante penso di dover fare ovviamente devi fare le squadre ok le ho fatte sono giuste sono giuste ok fantastico ci siamo ok praticissimo comunque questo line di ritenzo e facciamo i complimenti che proprio gestibilissimo facile veloce puntuale come dicevo l'ironia non la possiamo cogliere miniera di wario e giusto riporti cap di forza miniera di mamma mia io la odio ma sapere vi devo dire ti devo dire ti devo dire vi devo dire che vedo che siamo tutti su tik tok e raga che non l'ha stato ormai siamo rovinati 1 e manca uno è uno c'è nel coffee shop minota come si fa sbagliati però questo vuol dire che non sanno dove sono i tracciati forse non sono così esperti esatto quelli di prima li trovavano subito è vero ragazzi è trita ma è trita e ritrita diciottesimo a 11 ma quindi abbiamo una tecnica mi sono scordato di chiederva ok alla fine no perfetto arriviamo primi che dite sì perfetto ok e ultimo invece che succede raga l'ultimo vinciamo a verarmi e ragazzi di servire gli ottimi mistrelli i fiscazzoli cominciano già a minarmi non oggetti vabbè ma si gioca per divertirsi voglio dire io non so dove usare bene il nessuno di noi lo sa il turbo adesso merda e non conosco la pista sì è quella lì dove vanno le dove vanno i treni io non capisco perché nonostante non stia facendo per niente una brutta corsa non riesco a recuperare e sicuramente questo è il trucchetto che non conosco non sono il primo del nostro tra poste quindi il buscio blu me lo sono giocato io va bene abbiamo ancora due giri ok è sicuro il primo della squadra nostra per dire che loro sono facciano quattro posizioni avanti perché noi siamo quinti sì tutto male tutto male io c'è uno stellino dietro ho tanta paura io a 18 stelline dietro sempre di giochi ho fatto lo sporcazio ragazzi no ma che poverino sempre ragazzi ma eravamo tutti all'ultimo ho fatto un errore qui pure io ma l'ho fatto nelle talle curve andò di ottenere qualcosa arriverò comunque ultimo ragazzo stavo concentrato ho fatto lo stato è capito ma che ragazzo sono bravi è massa pista la merda secondo me le prossime faccio meglio e ma loro non sono andati male in questa e no a merda grazie al bus va bene ma io ragazzi dodicesimo pulito sono volantesi ma proprio ma tu non hai idea c'è ma senza vergogna attenzione fermi lo stacco non è vero è vero c'è le altre cosa è che era andata bene questa è molto carina di pista non è per niente come questa sì 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 ti piace la sentire questa è bella la serviva ero messa classifica all'inizio marco anche io ero quarto questa è la sua responsabilità ognuno di noi pensava sarà bravo sarà bravo qualcuno dei nostri compagni io l'ho pensato tanto io non l'ho pensato perché vi vedevo tutti intorno a me che l'ultima quindi non siamo tutti qui allora io ero undicesima questa è molto carina non lo so altro non è la mappa di club duty questa però no bravissimo è proprio il mio cognome come fai a saperlo ragazzi no questa la vincono come? non è che l'ho fatta a caso la battuta ma mi controlli io non so il tuo cognome come ti chiami il tuo di cognome? vabbè verri ma comunque non è il caso di fate conoscenza verri fa rima con i perri è vero Gianluca perri bellissimo Gianluca perri eh doppio verri oddio oddio c'è una ruota ad un aereo ma che vuol dire? siamo in un aeroporto aspetta vai ragazzi sono ultimo bello questo fra è il momento di fare una strategia allora non c'è altra soluzione nel senso ragazzi dovevo pagare un prezzo non è che posso battere mog a livello 100 essere bravo anche nei giochi di corse è vero però adesso ci servirebbe proprio l'altra tua skill poi porta nel scasso del Mario e la profezia è stata detta 8 anni fa a Francesco è andato da farsi leggere le mani hanno detto guarda forte nell'elden ma scherzo nei kart e Francesco che era ancora solo sui pokemon ma che vorrà dire ma lo scopriremo concentriamoci concentriamoci sì assolutamente eccomi sono super concentrato ragazzi incredibile è già un numero altissimo per me vai ragazzi non uscirà da me sono stata punita perfetto il mio karma è al seguro il mio karma è stato fatto peggio lo so nooo sì no cazzo non ti dico incredibile incredibile ci siamo sesta posizione quinta posizione il gioco e poi il mario canta ma che sto nemmeno alla pianta dunque vi sconsiglio di giocare questa roba senza auto è veramente impossibile giocare capito lui deve talmente c'è a dare viking che dopo che arriva primo ultimo 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 sono le trasmettute nooo è bastato un oggetto per farvi perdere completamente tutta la gara uno solo nooo figlio ok figlio ragazzi da secondo a decimo in un attimo attimo secondo ma sono io decima come è possibile Marco è incredibile questa cosa che è appena successa figlio finanza vaffanculo ragazzi mi sto prendendo uno sforzo a trattenere perché non abbia neppure degli altri traguardo aspetto che rifaccio la scenetta di prima ragazzi l'importante che lo vediate voi insomma come vanno le cose ma sono appena rientrato Marco non è neppure esagliato il traguardo ma la guida non serve a niente che arriva un guscio blu e per di tutto questo è Mario Kart questo è Mario Kart e la notizia l'ho detto lo detto lo vedo c'è adesso lo vedete lo vedo ho detto ho detto i osci ho detto i osci sempre è quella di prima è terza volta che la facciamo questa però ragazzi ho una buona notizia è una cattiva notizia la buona notizia è che ero il secondo tra di voi primo mike io secondo la seconda è che tutti avete cominciato a fare più schifo di me quindi ed è una brutta notizia e poi capita come capita perché gli oggetti sono quelli che sono certo e questo bisognerebbe capirlo soprattutto i colleghi e i soci accanto dovrebbero capire che ogni tanto c'è per di sempre non è ogni tanto ragazzi mi distante mi vi state spilacciando dai ai ragazzi da insegniamo sì 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 alla fine io sono il secondo della squadra ok ma se il primo nella vita con gli scatacone bella mamma soli ancora due corse via via poi adesso conoscire il porcinella è fatto prima invece questo non è la stessa ragazzi niente tutto di me la mano troppo di farla che coccinella chate la maniera coci la cucina raga e forse al peso ma in posta qualunque cosa che stia facendo e che motura di incoraggiando questo è il dialetto quindi non è considerabile bannabile scusate non so come sto sto parlando le parolacce non ci sono abituati sta succedendo sai doni hai eseguito bravo forse bravo forse bravo forse messi in più guarda la coccinella come in cucina buona lì buona lì e che sarebbe portato e se per caso finita per me fine non più mannaggia la mia nonna file perché non vera perché sono ultimo perché faccio schifo ok ma vede che sono ultimo tranquillo ma stavano benissimo nuovo l'oggetto ovviamente ragazzi ragami ho il fulmine non serve a niente giocare bene a questo videogioco no no non serve non serve vabbè buono però qui perché c'è no francesco francesco non ci credo non ci sto sto a credere francesco tu non hai idea di cosa hai fatto non hai la mia idea mi hai urtato sulla scorciatura sono caduta e adesso vi sto staccando è impossibile te lo giuro ma non ero è stato un incendio sei undicesimo? no sono 10 va bene non importa io mi sto divertendo si mi sto divertendo bravissimo che nervoso sto circuito da 12esimo a 92esimo e poi settimo che devo fare? francesco sei in olanda non olandese mi scrivono no ragazzi non mi sono tolto dei banane mi hanno fatto il fantasma non male dai ragazzi non male non male non male non male è anche bene ho matematicamente perso anche se hai fatto il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo qui non è neanche bene ma non benissimo è male ma non malissimo questa è la seconda che perdiamo dov'è? no muraglia del drago sempre nell'ovetto ed è difficilissimo ora è praticamente onore perché non è vittorie ma io vado qua muraglia del drago? a che ora? muraglia del drago al all'ovetto nell'ovetto si si praticamente solo viking sa giocare questo è difficile però tutti ci stiamo divertendo sì fino a un certo punto no dai è il terzo clash che perdiamo no il primo l'abbiamo vinto il secondo il primo l'abbiamo vinto e stiamo per perdere il secondo ne abbiamo vinto uno eravamo partiti bene abbiamo detto vinciamo tutto e poi in realtà esatto e ragazzi ho acquisito più punti del fossa di Roberta quindi sto migliorando no ma non 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 mi armi bra no 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 ma non è non è umiliarti cioè che prima io ho fatto il dodicesimo fisso mi si è ingolfato il cazzo ragazzi come? ma scusa non si poteva dire cazzo perdonami scusa mi si è ingolfata la mano dai bandi due giorni ci sta è successo a tutti comunque il bandi due giorni? no perché ho così difficile? no no io non mi hai colpito ah ok credo no ragazzi qua la curva non lo so che intenzioni avevi Michele dimmelo è difficilissima questa raga è difficilissima guarda è scontato che mi riesco neanche più a muovermi in questa pista no però la coci è straffè kiri kiri sono buoni sono dei dolci torinesi Christian Bale Christian Vieri quanta gente c'è? quanta gente vabbè raga finita ma sono proprio 12 persone ma tutte tutte nel mio sedere proprio tutte sì 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 basta fermarmi ogni volta che prendo un po' di velocità beh ragazzi sta andando bene sono utile che gioco di merito che gioco di merito scusami ho veri due minuti fa dicevi sono migliorato e ti giuro oh il pallottolo ma cosa ah ma quindi il pallottolo per fare una posizione diciamo ok ok allora si vede in un'altra pallottola stiva ragazzi no ma Luigi che mi guarda in camera che paura non c'è mai una gioia comunque se promettere di arzare cadi è finita sì però non è l'ultimo giro eh eh ho capito di non giusto guscio blu e io va niente mamma mia non colpire gli amici non colpire gli amici non è possibile non avevo colpito l'amico ma c'è pure l'otto pallotto che carino Michele che si preoccupi no è giusto fermati oh mio dio aspetta come si ferma di volta la testa lancia tu no il guscio arriva a Viking così no 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 vai 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 pallotto pallotti provaci così ma perché decimo ma non ho fatto niente di sbagliato ero sesto è quello che pensavo anch'io sono ultimo mamma mia che disastro grande Simo eccoci dai è tutta hai fatto il danno nell'entrare da quella porta 25 minuti fa mamma mia vabbè dai però hai finito a giocare stanotte ero sesto tipo ma cosa è successo anch'io ero quarto mamma mia mamma mia vabbè secondo degli scarsi non è male no Francesco se guardi i peni ora ci sono due punti che ci separano vero io non voglio dire niente mi mi dicono in chat non hai fatto niente di sbagliato ma anche adesso arriva forza che sicuramente recupero ok allora sicuramente recupero allora ragazzi ragazzi la prossima la giochiamo sciolti ammesso che si possa giocare perché adesso l'ha giocata seriamente scusa vede siamo stati troppo bravi dovevamo essere invece un po' più sciolti come sta dicendo fermi tutti alberto non ha fatto meglio di fossa assolutamente si è messo agli atti che nella prima gara che ho fatto tutto io Marco non ha fatto forse eri te questo? no ero io ero io ah ok hai fatto schifo eh mamma mia tremendamente ok ok dobbiamo metterlo agli atti però secondo me ci sono dei margini di miglioramento incredibili possiamo diventare eccezionali ai prossimi Twitch Live che non inviteranno noi ma su un gioco che nessuno ha mai giocato prima ma soprattutto non ci inviteranno mai perché diciamo questi sono quelli che sbagliano i circuiti le piste lezioneranno su smash e siamo tutti contenti no 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 è vero si vicario vi guardo dagli spalti dai doni è contento va bene va bene va bene ragazzi è andata male ne abbiamo persi due e vinta una per ora esatto io ne approfitto mentre c'è questo un momentino di pausa devo andare a dire che fate schifo vittissimo approfitto ragazzi che lo devo proprio dire fate cagare fate cagare aspetta un attimo nel frattempo se si arriva i mobili del team ti dico ragazzi mi stanno scrivendo che hanno chiesto di bannare Spagna e Francia per cheating che cazzo sta succedendo nelle altre hanno barato rifacciamo le elezioni no ma non li abbiamo mai sfidati sono robe che non stiamo vedendo però spera nel ripescaggio Gianluca ma perché ma secondo voi si tratta nella testa di queste persone che vogliono vincere a tutti i costi in una cosa che dovrebbe essere un amichevole ti ricordo che sono gli stessi che hanno riprodotto le sfide dei rivals a casa loro quindi secondo me di notte nell'hotel è vero e cos'è che hanno fatto cosa è questa roba che hanno raccontato le sfide allora i buoni allora ho centrato quattro termini questi ragazzi ai fish rivals del fishcon che erano praticamente dei neve viventi ossia delle cose alla Takeshi e Schestole e così via con dei videogiorgi annunciati la mattina stessa del fish cioè la mattina precedente all'evento hanno scaricato negli hotel con i portanti di videogiochi per allenarsi e hanno fatto a casa loro dei cartonati per stimolare i giochi dal vivo per imparare a farli in maniera competitiva cioè dei try art a livello proprio mental di notte allenarsi allenarsi per giocare un rivals è figo io non ho avuto tempo di farlo ma è figo quello è figo esattamente come ho avuto tempo di fare il red bull lopino e fare quella figata lì in 13 minuti e 40 qui invece c'è molto tempo però cioè se è compliant alle regole ora in questo caso ci hanno dato libertà cioè fate quello che volete ci hanno detto è un'occasione per fare beneficenza quindi non era vietato allenarsi è solo che si sono persi un bel party per stare a casa a giocare perché era la sera prima un peccato quindi quindi non so se l'avrei fatto come vuole però c'è sto meme dei francesi tutti a divertirsi e i francesi a casa che overcooked mi sa che hanno vinto ma anche ha proprio tutto tutto anche il cabinato credo nel frattempo in chat da me c'è qualcuno che chiede posso giocare anche io domani non è con gli iscritti è victor ok è con gli iscritti ai rivals la prossima volta sì la prossima volta allora che dobbiamo fare adesso aspettare allora se non erro se non erro manca questa e poi ce la giochiamo con i vincenti o perdenti credo secondo me ci fanno giocare almeno una volta contro tutto oddio però siamo lunghi sono già le 8 fra preparati perché qui non siamo in 4 non siamo solo 4 siamo 8 team 8 team di 6 48 giocatori ok immagina che figata però piglia mosche scrive non può fare peggio di possa io lo farei giocare no perché ce l'hanno con me questo arriva dopo perché stiamo facendo tutti schifo perché me la prendete il foro cioè tutti non è vero simone sta facendo una gran bike è altalenante o fa benissimo o fa schifo la merda e secondo primo dodicesimo perché a volte è bello e a volte riesce a improvvisare le mappe a volte non riesce a improvvisare le mappe ma perché gli oggetti cambiano tutto cambiano tutto vabbè certo prima poi un guscio blu poi un guscio rosso poi la scorreggiano schiaffano sulle spalle lasciando perdere l'ultimo tracciato che veramente è il mio punto debole quelle curve le prendo malissimo però ragazzi la coccinella ma quindi ora che succede bisognero aspettare coccinella top ma la coccinella intendi il kart giusto? no no intendo una coccinella vera la sto schiacciando con i joycon a posto chiedevo non capivo ok schiaffano no la coccinella la pista acobalena queste due aspetta giocamato ma gli amiibo possono giocare al posto nostro eh? è come i smash quindi la gente potrebbe avere le mani in basso e far giocare gli amiibo ma in effetti si poteva anche fare con un amico forte ce lo mettevamo accanto non ripreso dalla telecamera bello ma 3 animo in generale meno schifo di altri però stiamo giocando un po' così e ci dicono dalla chat perdonami ed è vero è importante soprattutto perché non abbiamo mai occasione di fare content coi player inside complimenti a Midna che pur non essendo inquadrato sta facendo dei punti brava esatto veramente grandioso grazie grazie che ci dimostra Midna che anche senza le luci del teatro del palco si può fare bene si può fare meglio nonostante le donne difficilmente possano commettere gameplay questo è un meme attenzione mi raccomando è un meme visto tutto il mio canale twitch passarmi davanti è un meme è un meme su qui no no per spiegarla per spiegarla a Cikib praticamente uno per insultare Midna ha detto ma perché queste donne che commettono gameplay e da lì è nato tutto il meme ma mi stai mainsplainando una battuta non ho capito no voglio ancora stremmare nella mia vita per favore non volevo essere affettivo no sto scherzando non me la sono presa tranquilli vabbè vabbè come si fa la cpu fa schifo c'è con la cpu sono primo how do you do ban come si fa allenarmi how do you do the allenamento the allening l'allening lo fai con le sfide a tempo scarichi un tempo fantasma fantasma ma perché ma perché hanno già squalificato inglesi perché non abbiamo bestemmiato non abbiamo insultato esatto stavamo rischiando il mens non ci siamo fatti però gli unici che avrà vissuti insieme a pochi altri che non si sono fatti bannare esatto esatto in realtà siamo in semifinale siamo in semifinale con jeff bezos adesso si con lei noi siamo quelli che si siedono in prima fila nei pullman e stanno vicino alla maestra e fanno tutti bravi l'indietro tranquilli e la maestra dice bravi ecco 20 dollari non so cosa succede ma che scuola hai frequentato non lo so comunque io volevo leggere un commento di pramur che dice supporto per fosse ingiustamente accusato di scarsezza la prima serie è stato è entrato qualcuno aspetta no hello è nella stanza dell'hotel ah era rubiu c'era scritto rubiu ma perché ma è entrato dove ragazzi non c'è mica l'ho è entrato da noi si 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 è entrato su un attimo su disco ed è entrato e uscito stava facendo la regia Simone perché non c'è nessuno è alle tue spalle è alle tue spalle ma comunque anche da noi dicono fosse ingiustamente scarso che che voglia dire ragazzi siamo in semifinale del consolation bracket la merda anche in finale di consolazione adesso allora gioco le palle non mi interessa scusami come è possibile il consolation bracket abbiamo fatto il consolation bracket siamo passati tra gli scars come con un win-loss-loss si possa essere in finale in effetti una vinta due diverse e ho capito ce ne manca ancora un'altra se facciamo win-win-loss-loss non è detto che ce ne manchiamo no non so se ce ne manca un altro ancora beh se siamo otto team si pensano che perderemmo e quindi ci hanno messo già nel consolation sono otto team ma sono gironi da quattro quindi noi abbiamo giocato contro tutti quelli contro cui dovevamo giocare non contro tre questa è una buona essendo da quattro giusto una buona osservazione ok acuta io telegram quando ho chiesto quanto sarebbe durato mi hanno detto massimo otto e mezza sono le otto e dieci ma una domanda ragazzi ma quindi possiamo abbiamo giocato contro tutti e tre del nostro girone siamo ultimi no no siamo ultimi terzi su quattro terzi su quattro ottimo quattro ok non speravo tanto intanto vi aggiorno mi dicono che la spagna ha un player di mario kart e la francia ha un coach in vocale che li sta guidando vabbè ma allora vai ma fanno schifo porca miseria ma come si sono organizzate non ho capito chi è che c'ha il coach la spagna la francia siamo in spiaggia il più forte di noi è un senso mani io vi intendo allora ragazzi ragazzi ma abbiamo sbagliato noi i portoghesi hanno fatto tre loss quindi bella bella i portoghesi non sgassi non avevo non avevo dubbi ma il problema sai qual è proprio quello che i portoghesi ci hanno settato la barra troppo in basso adesso noi andiamo in un bracket dove ci sono gli ultimi due quindi noi e i portoghesi più altri gli ultimi due dell'altro è impossibile non essere in semifinale c'è semifinale consolation e per tutti io sono tipo quei calcoli in opacità massima che so no sì 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 assolutamente a meno che non fanno solo semifinale consolation cioè terzo contro terzo è vero però anche noi abbiamo il pro player fossa nella nostra squadra quindi non dovrei prendermela terzi contro terzi ragazzi grazie grazie semifinale secca terzi contro terzi giustamente in chat da me chiedono ma se non fosse stato un evento di beneficenza questi come venivano che già hanno il coach e il pro player e veniva direttamente mia moto che faceva in moto veniva tra l'altro con un gruppo paramilitare privato questo più che i giocatori in realtà dipende da chi hanno chiamato si portavano i kart da casa esatto e dipende da chi hanno chiamato perché comunque da noi perché Cedonia ha chiamato noi in simpatia così in amicizia loro invece hanno preso quelli che gli stavano sul cazzo però forti sì va bene così va bene così ma sì ma siamo dei signori ragazzi adesso vinciamo la bracket degli scarsi subito allora non è terzi contro terzi non sappiamo quanto siano meno scarsi di noi baby park baby park è quello con 7 giri allora sappiamo dei portoghese dei portoghese insomma ok ma non sappiamo perché ci sono 6 corsi da fare ma l'uno ma l'uno ma l'uno era molto aulico l'uno è mario galaxy che sono 6 gare mamma mia ragazzi baby park sono 7 giri è soltanto è una o praticamente la o esatto è tipo è 150 è un casino è un casino perché siamo troppi tutti attaccati ognuno avrà degli oggetti diversi e quindi io credo che nessuno saprà come vince non lo so che sia davvero un casino allora ragazzi ci dicono che se vinciamo le ultime le prossime due cioè questa è un'altra dovremmo fare terzo posto abbiamo vinto ah no ok no terzo posto per me è grandioso ma donna sì ci sono solo io con sedonia dentro ma scusa fra perché hai settato l'aspettativa sul terzo posto cioè qual è il terzo posto sarebbe poker se è vero devi prendere i tre diamanti prima della curva aspetta mi dettate il codice tanto non penso si scandalizzi fra forse meglio di no fra dai si sa mai no ragazzi ma che cazzo state dicendo voi fra lo vuoi su telegram te lo copio perché forse dirlo non è il caso te lo arrivo subito dai 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 dettate no te lo mando ma vi mutavo qua ecco qua ah se siamo mutati allora sì va bene però te lo mandato su telegram te lo mandato su telegram sì se no si deve mutare anche nella sua ok ok grazie grazie ragazzi in chat mi chiedono una cosa molto pertinente uscirà mai uno yakuza con dialoghi in italiano ai due ai di dai madonna è quasi uguale ah sì devo toglierlo ragazzi scusate secondo me no vai devo entrare baby park dudu datemi un secondo se mi date un attimo lo addo ok come va la batteria del controller eh ho cambiato controller mi va dato mani che pro grande grande saido ok scriveteli per favore cosa ora mega ho fatto l'altro allo schermo cosa ragazzi voi vedete io vedo nero eh sì è online amici avversari poi era oscurato ragazzi ma che stavo dicendo magari ci stanno trollando ok infatti era nero quindi stiamo entrando tutti momenti concitati sì siamo già dentro siamo già dentro da frasi eccolo ma quello predefinito chi è viking? io secondo me anche fosse predefinito sì 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 siete uguali io sto ballando con Mike ah ma sono diverse le animazioni per ognuno sì sì infatti io non lo vedo perché a ballare? no non si può lo fai in automata amici io saluto ci vediamo ciao Marco ciao Marco ciao Marco grazie per il gush io ho scelte l'ho detto lezione è entrata una che non siamo noi è meglio bene bene anche due io non ho lanciato quanto quante ne mancano allora prende adesso facciamo secondo me due tre giri con sei piste ok quindi altri tre team con sei piste ciascuno e poi come ci puoi siamo ci piazziamo o meno che non ci siamo noi dobbiamo lottare contro questi contro altri due raga ma chi è quel piccolissimo minion rosa? è bellissimo questa è una bella domanda questa è una bella domanda massimo ok ok finiamo l'ottemezo di domani massimo massimo cioè sicuramente prima delle otte e mezzo di domani ragazzi sei ancora da Amsterdam comunque allora il mindset cambiamo il mindset ok? morbidi bolleggiati 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 ok mi alzo in piedi adesso prima ho giocato seduta qua ho entrati tutti l'ultima e poi vado bellissima l'ultima e poi vado eh mi sa di no però uno allora devo aspettare il via loro quindi niente stiamo dicendo frasi senza senso hello is everyone in the lobby now? ehm I don't know eh conta si siamo 12 yeah we are still si 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 ok mi devo mille ballone non riuscivo a capire è male stai donna allora devo fare sei corse just wait until I let you know to start oh I don't have to start yet do not start yet no until I tell you to ok ok alright thank you no no le piste però dicono Mario Stadium TikTok troppo belle le prime tre no baby park è un delirio eh baby park è un delirio però Mario e TikTok son bellissime Ayruun la odio si si ragazzi io me la sento calda non ho capito niente di quello che ha lasciato you can start the match now ok thank you ok thank you io me la sento calda ciao Neil dici tutto hi hello how do we hot how do you do ragazzi un ve lo voglio di ma nella squadra avversaria c'è Frodo ma c'è anche Kirby tipo c'è quel coso bellissimo allora ragazzi dobbiamo eseguire la vittoria che cosa how do you do victory qual è la prima gara baby park baby park la prima gara è praticamente sassa sassa sasso è nella foglia nella foglia c'è il baby park foglia marrone no 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 foglia marrone la foglia prima riga foglia verde sabago foglia verde foglia verde ok ok grazie sono stato il primo a selezionare la mappa come cazzo ti permetti francesi rossa gli altri esseri umani sì è vero il problema di questa mappa è che tanto secondo me è solo lanciare una moneta sì 100% sì sì allora questa mappa è la ricordata di double dash però siamo tutti perdenti giusto quindi dovremmo essere epici oh ragazzi hanno scelto la mia allora ragazzi molly ciao molly eh contro i tedeschi ok proviamoci così ok quindi polleggiati del tipo vincere e perdere divisioni da scarsi ma noi siamo gli scarsi ok polleggiati polleggiati polleggiare io sono molle nel chilling dai chi sono tedeschi con questo giro chilling 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 ragazzi sono chillatissimo sono ultimo moisi ci sono anche una banana per gradire eh vabbè ci sta troppo larghe troppo larghe ma quante piccole figa non devo prendere gli oggetti devo prendere però eh caspita io nel chilling proprio nel chilling ragazzi ma sto chillato in una maniera che ho difficoltà a spiegarvi io sono chillatissimo non sono per niente io sono un cazzo non mi sto impegnando ragazzi chiede secondo me stai pentendo non so ho questa sensazione no 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 io credo a me no figurati ma non ce l'ho fatto no bro eh sì mamma mia porca mille l'RG è così incredibilmente ludico no nel cinema nel cinema ma che stupi l'RG è così che mi filmette come si muove come si ha la vita 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 lasciatemi giocare ma stai giocando è vero è vero è vero ma che bello giocare insieme ai amici stella che ridere cosa vuol dire madonna sono riuscito pure renditi conto renditi conto che schifo di tracciato decimo ma sopra frodo equilibrato dai va bene va bene decimo ma divertito insomma ma che schifo ma poi perché nessuno di noi fa meno schifo oh ma come ma ma come frodo poli che dite qui era a caso adesso che c'è Mario quindi il primissimo primissimo circuito stadio Mario Kart ah il primo primo ok stadio Mario Kart yes l'odio per il baby park proprio è un odio viscera però speravo che qualcuno facesse un po' meglio invece allora ragazzi posso fare il capitano abbiamo battuto frodo cioè frodo era sotto di noi quindi questo deve gustarci il morale ok certo si capitano ma non è vero dai vi fare come dice il capitano guarda mi ha scelto di nuovo di nuovo la pista di Midna questo è un sogno questo è un segno schifoso perché prima sono arrivato l'ultimo per cui vediamo vabbè vabbè ma perché c'è un irlandese in mezzo di così perché è un simpatico è una giunta ok è quasi la Germania se ci penso chillate sì sì se ci penso quasi io ci penso Mike si ricorda nel chilling certo ok sì ma bello come sono chillato cos'è che era ludico prima no cazzo aiuto ma perché mi esce la risata brutta quando fa davvero ridere una cosa e quindi rido anche col naso se mi mapegno io punto quello da 1 perché quello da 2 non me lo fa che cazzo sono riuscito a cadere anche in questa pista come hai fatto a cadere nello stadio impossibile impossibile non lo so stavo cadendo anche qui ok vabbè sì ma tanto che ci frega ma che ci ne frega cosa figura ho fatto boost dentro ok 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 ho fatto ragazzi è fatto perché ora mi dà gli aiuti e vedete vedete con gli aiuti si fa io vorrei che posso semperarmi il culo se possibile bianchile bianchile ma mi sto anche difendendo mi ha colpito di bianco ma questi sono veterani cioè più anni che vede sì ragazzi comunque è tutto questo tutto tutto no ok ok ora arriva pure lì con la stella ma si può dire tranqui ma sì ormai tanto abbiamo perso sti cazzi si va a fare culo io prima ho detto cazzo per esempio te lo giuro faccio in tua madre non ce la posso ma sì mi voglio bene a mia mamma non posso mai vincere una cosa in questo gioco no io non posso non colpire me non colpire me perché sono stavo cioè cavolo che figata ma cosa cazzo è appena successo polizia giuro che a casa la sapevo polizia grandioso ero dietro a viking fino a un secondo fa dai dai ragazzi è grandioso ragazzi grandioso se un altro torro è arrivato dopo eh dai però si può fare ancora si può fare ancora nice 69 dai 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 cerchiamo seconda diversa dai dai raga sono sei pisti la tiktok dov'è la tiktok clock ragazzi non voglio sbagliare di nuovo adesso dov'è dai è il dlc secondo me no è la pista fulmine seconda riga quindi è la prima vista tiktak fulmine ok vista tiktak sì e questa l'ho scelta io tra l'altro mi piace un sacco la posizione del forte me la dimenticavo l'hai scelta te l'ho messa tra le preferite perché sulle lancette si sono un sacco di shark intanto pramur la voce della verità unica voce della verità in tutte le chat di twitch Italia sentiamo dici fossa maggiore di mottura io pensavo fosse qualcosa ma in teoria voi non dovreste fare squadra tua in mottura va bene eh va bene ma c'è questo rapporto così un po' vinto rilelandese l'amore non è bello se non è litigarello ah ok fossa maggiore di frodo anche dicono sì ma maggiore di età o di età di età no anche di di comunque fossa alla sua età sta ancora giocando benissimo a mario kart grazie grazie a 40 anni ancora se la fa a fare dei giochi io ho del rispetto nei tuoi confronti grazie io non vorrei mai avere l'età di forse ah scusami ok è fatta ragazzi sono secondo non ho mai visto un numero così basso in vita mia grazie no baby ragazzi sono primo non è vero infatti no no è perché quando è possibile vabbè è e sei 10 magnissimo roberta dimmi tutto cosa perché perché c'è questa pista perché ci sono sacco i shortcut che è su è molto divertente bellissima bellissima mamma mia che ridere i pendoli in faccia è umorismo nintendo no no basta è umorismo nintendo basta si è dura che timing basta o sia ancora un piano divertimento ok metto da parte la mia risata brutta mi vergogno io credo di avere dei problemi con il joypad ho perso tutto ho perso tutto no è ancora l'orgoglio forza dai forza non mollare non è vero ma va lo sgoglio allora ce l'hai perché non si può giocare no si può si può divertimento nintendo hanno detto no ragazzi io non capisco ma manco a dire facessi 500 errori a gara non è semplicemente un certo motivo è un dicesimo e non cambia niente c'è qualcosa che non mi sto divertendo oh dai ma è assurdo ragazzi ma mario kart è così dai forza ragazzi mi seguo i joypad scarichi questa bruttissima notizia welcome to mario kart you don't know what you expect no 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 non è possibile è ok è un problema tipo panfili ragazzi devo cambiare joypad ok ora ora mi da un proiettile e si arriva prima mi fa mi dà la stevenina non voglio la tua stevenina che non posso mai avere una gioia vabbè 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 meglio di nuovo stiamo migliorando mai ai 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 troppi rossi però torre frodo giù è però ragazzi la posizione del forte funziona ce la possiamo fare va bene va bene va bene va bene va bene quella cosa bella è che se sbagli tracciato non ti fa annullare questo devi fare la brutta figura a livello internazionale e anzi scelgo proprio la tua stronzo ragazzi ragazzi ricordate è sempre più importante cogliere l'umorismo l'intendi ha bisogno di un esempio ultimo devi immaginarti mia moto che ti dà una pacca sulla spalla e ti fa panni io lo immagino più effetto saponetta in galera però vabbè ragazzi questo mi raccomando è la ospa ci deve dare forza carichi carichi io sto giocando senza audio michele non conosco la pista però senza audio sta arrivando primo forse è quello il segreto primo secondo primo secondo c'è lui è forte però è anche un vecchio stempiato però è rilevante se è rilevante ci sto attento io non so che cazzo sta succedendo non è cazzo di pista porca puttana roberta scusami no ma ragazzi sono parolacce non me la sto prendendo con qualcuno in particolare ah no vita proprio ragazzi lo vedete lo schermo cosa ne pensate ragazzi sono primo sono primo io non lo dico quanto sono va bene aspetta possiamo provare a indovinare ci dai degli indizi ok ok perfetto va bene va bene va bene si dice mannaggia perchè loro mantengono le posizioni e non il dolce eh c'è qualcosa l'ho notato anch'io ecco non lo dovevo dire ecco qui ce l'ho bavan cuore nooo ma come quanto dura la ue ma melma melma è tutto così sbagliato è tutto così assolutamente sbagliato sono ultimo merda ero anche partito bene ragazzi ero secondo quando ve l'ho detto no ce l'hai detto vabbè devo partire solo da un po' vabbè ma puoi sempre madonna ma la musiche bellissima pi 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 vada guscio rosso su mentre volo che cazzo ma perché è arrivato a me che sono sesta ah perché sono tutti primi è la prima italiana porca troia ma io ho visto corsa infatti mi sono beccato il guscio ma dai ma sono tutti loro davanti E tutti noi giù Se io vi dico cosa è successo Non mi credete Quindi lascio perdere Non ci posso credere Ragazzi Non ci posso credere Ero quarto e mi sono emozionato Ragazzi ero primo Sono arrivato decimo No ragazzi Vabbè ma tanto lo vedono in live Ragazzi c'è sempre una giustificazione Io ero sesta Guarda dove sono finita con un guscio blu Uno solo Ero sesta Ho perso tutto Adesso Non ce la possiamo più fare Non ce la possiamo ancora fare Però ragazzi Guscio blu e guscio rosso di seguito Adesso dov'è Lucky Che cazzo vuol dire lucky in inglese Lucky Cos'è cos'è Il percorso come si chiama Kai Garden Dov'è Ragazzi Giardino nuvola ragazzi Giardino nuvola E dove E giardino nuvola si Ed è Dlc Dlc Credo sia quello Non lo so Sì 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 Lo fanno Qual è Ah Ho sbagliato La campanella Non sbagliato anche loro Hanno sbagliato tutti Hanno sbagliato tutti Ti giuro che hanno sbagliato tutti Vediamo se esce Sky Garden Vero dai Ha sbagliato un botto di gente Uno si è astenuto Proprio A me è uscito A me è uscito A me è uscito Sto provando a rientrare A me è uscito Dai dai va bene Bravissimo Michele Sì Quanto è casuale Non è in gara Non ho capito No non sono in gara Mi è uscito No Ma tu ci sei Non c'è un teresco No è uscito No è uscito No è uscito No è uscito Io sto caricando adesso Secondo me Mi è fatto a spettatore Ma ci siamo tutti La GPU è più forte di noi Io vado Io faccio vinta di non sapere Vado Anch'io Anch'io No non ci sono Però Viking è l'unico Dal quale non traiamo vantaggio Con la sostituzione della GPU Cazzo è davvero verissimo Non ci sono Ragazzi Porca miseria Penso che Con il ritardo che abbiamo accumulato Non te la faranno a rifabro Cioè glielo diciamo eh Però No no Vabbè però Siamo anche Sì no infatti Eh prima ce l'hanno fatta rifare Però non si ha fatto Uno secondo eh Però Io terzo dai Beh ci sta la mia CPU ragazzi Adesso quarto Sì Oh Comunque te la stavi cavando benissimo La CPU dovrebbe essere almeno all'altezza Non c'è Non c'è Ma vaffa No no Volevo dire Peccato Sto giocando i 11 guys Perché c'è nelle impostazioni della lobby Però A noi dava un giocatore dei loro in meno Quindi anche a loro manca qualcuno Quindi forse siamo quasi Pari Primo Secondo Bravo bro Guarda il percorso delle nuvole Dai sono nono Vai Michele Vai Michele Vai Michele Vai Michele Vai Michele Michele credici Vieni No Guarda No Eh Vabbè l'ho sottinata in faccia da solo Cioè ragazzi ma da prima a settimana in un secondo È davvero È allucinante È la cosa più snervante del mondo Mario Kart Ti giuro Lo odio Sono uguale unici Ringraziamo i ragazzi di Nintendo Che ci hanno permesso di fare questo Sì scusateci che siamo persone abituate a dire le parolacce Però nonostante questo sembravi Lo dicevo lo iodio è importante Per la salute mentale Per i denti Lo iodio per i denti No quello è il cloro Quello è il cloro Ah scusa Lo iodio per le ossa Per le ossa Per il cervello Ho fatto del mio meglio Maledetto Torro No 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 Bastone fra le ruote lui proprio È vero È vero Ma ragazzi mamma mia però Mamma mia quanto Quanto cioè veramente Io avevo un michele davanti Il primo al XX Un ultimo Un ultimo Viking ultimo Un ultimo Veramente pessima Pergogno anche per quando Pessima pessima divisions Che l'ultimo è Ninja Hyd sytuì Che dovrebbe essere il covo Quindi l'ultimo Ma tu ormai non puoi più rientrare Sì sì no ci sono Io ci sono Ah ok Io v'ho aspettato quella di prima 40 punti Se facciamo Noi primi sei E loro ultimi Di nuovo la ninja Eh sì Ragazzi da ora in poi il pronostico deve essere solo Fossa primo oppure no Fossa primo o niente Primo o niente Primo o niente Comunque se c'è con Adesso ci sei? Io ci sono adesso Ok Matti ragazzi vi devo leggere sto messaggio Matti scrive seguo dalla seconda sfida A questo punto mi chiedo se ci sia davvero un team Che abbiate battuto Secondo me no Secondo me ce lo siamo Ce lo siamo inventato Glissiamo su questa cosa Abbiamo avuto le alluminazioni Ah no era carino come battuto Van Ragazzi Io credo di essere nel team dei tedeschi Viking sai cosa fare Buttati di sotto Sai cosa fare Non lo saprà nessuno Non ce l'hai detto io non ho sentito No no anch'io non ho sentito niente Come puoi batterli davvero questi tedeschi Dai il meglio di te bro Ragazzi non ci sono più eh Non ci sono più Ma che vuol dire in che senso No nel senso non ci sono più con la testa Ah ok Pensavo anche tu avessi il Io sono del loro team ragazzi No non è vero No c'è un Stai dicendo che ce la metti tutta Va bene Che succede? Simo se arrivi ultimo non importa Possiamo capire che sei stanco Vuoi fare a pezzi il team Ok ok No Ah ok Mamma mia che problema Non ti preoccupare Ti perdoniamo Non c'è problema Ok Prego Figurati Vantelo per lei rosso Carino Mi piace un sacco il rosso Chi è primo di voi? Io Precati questa No Sei serio? No No Ragazzi no Non ci posso credere No Ma vai Ma che fai? No 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 Non ci posso credere L'unico team che gioca contro se stesso È incredibile Io voglio espellere Simone via dal discord Non puoi più sentirci Vietato Simone non ti Basta Non ci posso credere Gua mi hai fatto così tanto arrabbiare Che sono ultima Pensa un po' No non è possibile Ultimo sono io No Francesca No adesso io Ciao Fra Com'è? È tutto a posto Roby Mi sto divertendo Ah L'umorismo Nintendo Sono caduto Anche io Vabbè Io ho fatto un volo Che non aveva nessun senso No vabbè Traditore della patria Però non ci posso credere Io ho sentito questo rimasto Ho sentito un ragazzone Che vibrava con l'umorismo Nintendo Eh Ah mannaggia Discord E ragazzi però Nooo Vabbè Sto male Anch'io Va bene fare schifo però Vabbè Ma ragazzi ho fatto Un poderoso undicesimo Vabbè 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 quinto dai Non farò più Che disastro Che disastro Che disastro Come secondo Oh Come secondo Ma non lo sai Bravissimo Ma io ero primo Ah allora no Scusatemi ma poi Maluna Maluna ha giocato con noi No scusatemi Ma ma Abbiamo perso comunque No questa si rifà Perché magari Maluna ci stava Ma no dai Era questione Era questione di due punti Eravamo dietro distraccato i punti Alla fine però terzo E' entrato qualcuno Neil Hello You're right? Something happened Neil We don't know What? Something strange What was that? Neil Neil I think that the blue The blue shell Is not It's not fair No no One of us One of us got disconnected And one of them Got disconnected Is that in Skygarden? The team Yeah The team Were Yeah The teams were switched So So We've 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 got to run Skygarden again Ok Ok Rifacciamo Skygarden Yes Right now I played in the other team And some of the other guys Played in our team So We should Maybe We should play again What? Um Io non cenderò mai oggi Ah One second I'm just looking I've got the results here So L'hai fatto diventare triste Simone No Oppure possiamo Oppure possiamo accettare Io l'accetto eh Sommessamente Ma dignitosamente E da uomini Rischiamo di ripetere Cioè da persone onorevoli La sconfitta Ma si Let's love Let's love Viciata So I've got the results Of Ninja Highway And they look right They look like You're on the correct teams No we were not I can assure you But it's fine What we're saying Is that we may forfeit You know The match The other team wins So we don't need to replay Di Sennò come propone Sara Viking Possiamo anche chiedere Se rifacciamo Tutto il rival Da capo No no Ok No 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 Ok Ok No io proponevo eh So we'll have to run the last two races again Ok If you could set that up now Ok 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 And just start as soon as you can Posizione di posto Ma Ok Ma noi volevamo forfettare No no Non si può Non si può Eh ma gli altri non vogliono Non si può Non si può Vogliono batterci di più Sì Sì Ce lo vogliono sbattere in faccia Immagini arriviamo tutti nella prima metà e perdono Non ho idea se tu e questa impostazione sai tu dovresti fare il circuito adesso con due gare Certo vediamo Se c'hai questa roba Controlla Ma che vale io avrei Gli avrei detto semplicemente l'hanno vinto loro Ma sì Ma gliela hai già La mia chat mi sta dicendo che ora possiamo vincere Ok Perché? No Come mai? Che dicono? No di punti E' spettibile vincere E noi facciamo 34 punti quindi loro abbiamo vinto Dai dai Ok allora non possiamo fare due corse Quindi ne faccio quattro ok? Sì E poi dobbiamo abbandonare Ok Sì va bene va bene vai Ok Io però È vero il rumor che avete puntato alle quote di round 2 su questo Rivals La mente di Edux Se domattina non andiamo live sapete perché Sì esatto Io voglio fare una fan art di Viking traditore Proprio con la bandiera dei tedeschi sulla faccia dipinta Che tira il guscio blu Ma sono tedeschi tra cui mi sono perso il problema Sì però tu hai buttato il guscio blu a sabato scusami eh Sono tedeschi hai buttato il guscio blu a uno di noi Quando ero primo Ok Ok and no one is there They should be joined now Ok ok They are joined now They are joined now All right Thank you È forte lui beluga lì Ho scusato dischi Tra le frasi c'è un raga scusate In realtà 22 Un po' come ne vado Allora ragazzi Capiamo una cosa Vai capiamola Io ho migliorato da dodicesima posizione fissa Ottavo Settimo Giusto Ok Possiamo migliorare anche tipo le quinte quarte in primo e secondo Sì 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 Si possiamo provare Io ho migliorato anche l'estetica rispetto a mottura Ok Ma se io facessi come ho fatto le prime due gare Già sarebbe meglio Io è che mi sono sfilacciato tanto No mi dicono di non allargarmi in chat D'allargare D'allargare Bastava chiedere Facciamo tardi E loro mi hanno detto Rigiochiamo tutte e due le piste Va bene Allora va bene Forse hai capito Facciamo tardi No guarda veramente Io voglio fare chiusura a Rivals Sì 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 Onna mia Chiusura fino a domani C'è chi vuole vincere Chi vuole perdere E c'è chi vuole mangiare Invece Gli amici di Red Bull mi taglieranno I biberi Eh vabbè ho capito Però stai facendo beneficenza tu adesso Quindi A parte quello A parte che stiamo Esatto Dando dei soldi in beneficenza Ma a parte questo A parte questo C'è qualche altro lato così C'è finito Finiti la di positivi A parte questo Finiti la di positivi Siamo tutti Siamo tra amici Siamo qua Felici No ne mancano Sono due dei loro Manca uno Manca uno dei loro Please start as soon as you can Cos'era? No ero io ero io No vabbè Sì avevo capito Che non fosse uno staffer Di Twitch Era Tom Tom era più Non so se hanno detto Tom Neil vai tu Perché se no li ammazzo Tipo Tom si è ritirato No perché Tom La voce figa Sta nel winner bracket E poi Noi ci siamo Peccati nil Anche dovessimo vincere Eh Se anche dovessimo vincere Avremmo comunque fatto tardi a cena Purtroppo In questo momento Viking è entrato A palazzo Chigi Ha fatto il verso a Mattarella Cosa stai dicendo? Oh no Tom si è licenziato Il quirinale così almeno Anche davanti a Mattarella Stavo imitando nessuno Stavo semplicemente Mettendo una frase Che sicuramente ci verranno a dire Tra due secondi Non era imitare nessuno È vero Anche perché sono molto bravo a imitare Prova a imitare Francesco Ma io qui mi sento Ma siamo tutti o no ragazzi? Ho portato una panna a sceme Ma siamo tutti o no ragazzi? Siamo tutti Siamo tutti No un due Tre quattro Sì tutti Tutti via Vai let's go Let's go ragazzi Si gode Ragazzi Ah però Deve essere blu Go Ti fanno rifare solo skygarden? No dobbiamo rifare adesso skygarden Ok ok Iniziamo con skygarden Skygarden io faccio cacare Aspettiamo fare squadre È una cosa difficile Allora Mike prova a dirti una roba Vai C'è la penultima curva della pista Ok Dove si prende larga Ed è una curva U Ok Ti hai il fungo Puoi passare in mezzo C'è un albero No verde C'è una U verde Ma si può scegliere Tu corsi di una donna No 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 Scegli un u No lo sto dicendo Nel senso Quello che intendeva dire Francesco Amici di Nintendo È che purtroppo Allora La madonna La garden è giardino nuvola Giusto? Sì sì Giardino nuvola Quindi alla fine Quello è un taglio Che se avete un turbo qualsiasi Solo con un turbo si fa È quello però È un taglio che si fa benissimo E vi fa guadagnare da morire È ma l'han fatto tutti Alla fine Alla fine Il penultima Penultima curva C'è una curva U Molto larga E si può passare in mezzo C'è un albero C'è un albero Ci nintendo Ho capito Sì Si può passare in mezzo Però ti serve il turbo Giusto? Ti serve il turbo Perché si passa nel verde Il verde ti frena Però se saltelli un po' nel verde Ce la fai No 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 È lunga lunga Le premesse sono quelle che sono Ragazzi Ragazzi questa è fatta Non l'ho detto Dobbiamo recuperare solo 30 punti Abbiamo tutti l'antenna Adesso di Gianluca Che è la bandiera Che è la bandiera Sì Che ho fatto caso solo ora Ecco io sono qui È buono? No perché No all'inizio non va bene essere qui Ma che cazzo No vabbè Ah quindi la prima parte della strategia La faccio bene Sì Mamma mia Mamma mia Ha preso Io qua non prendo mai L'amico porro L'amico porro Fa esattamente la scorciatore Qui Vlesk Ha fatto una roba Incredibile È incredibile ragazzi Incredibile No io Cioè no Io voglio la moviola Il VAR Cioè No l'avevo messo dietro Un frame Ma possibile Non è un picchiaduro Non posso prendermi il danno Perché non si attiva per un frame Il guscio dietro Sì Scelgo te Ok adesso vi inciterò come se fossi Davide Garbolino Va bene Vai Forza Non è più possibile Quasi Cioè ragazzi ma cosa devo dire Cioè io ci posso anche provare Bisogna Non fa ridere questo Mia moto Non ci posso credere Non ci posso credere Ragazzi Non ci posso credere No avevo il fungo fino alla fine Per la curva E' arrivato il fantasma Non ci posso credere Ragazzi ci ho provato a portare Penso si sia fatto schifo ragazzi Penso anch'io Ho provato Ragazzi No ragazzi Non ci posso credere Non ci posso credere Vaffanculo No Io mi sono preso un guscio rosso Mentre planavo E la parte è Covo Ninja Eeeh Sì Nel DLC la seconda Ehm Nuovo Mannaggia Oh qual'è l'altro Covo Ninja Eeeh Nel DLC l'ultima pista Questa è proprio l'ultima gara di Rivals Dopo questa raga Si decide tutto Dopo questa non ci vedremo mai più No Ah perché veniamo eliminati Eeeh Oddio penso di si Non era il bracket dei perdenti Beh Sì Credo Sì Obiettivamente si dai Credo di si Quello dei vincendi è difficile Non puoi usarli per proteggerti tra l'altro Beh dindirindina Però le parolacce che io dico in italiano Non sono parolacce in altre lingue Se ci pensi Ah sì No se ci pensi Effettivamente non è così Quindi forse non sono Non sembro così volgare No Agli occhi del grande pubblico internazionale che ci guarda Secondo Tipo se io dico scolapasta al limone Sembra che sto insultando in italiano Dicono guardate Volgarotti Io non ho capito dove fosse la curva ragazzi Io credo che una cosa sia Uno scolapasta al limone Ho dei grandi dubbi anch'io Ma qui è possibile non prendersi la staccionata nelle palle Sì Sì Io non so Siamo andati proprio dritti Esatto Ma anche baking in realtà Beh è difficile Difficile Com'è possibile Non fare quello Non lo so No ragazzi Sì Questa è proprio fuori allenamento Però la musica è incredibile Mi casa un botto Ragazzi io voglio chiudere con un Solido dodicesimo Non so No no Solido o solito Come no Non è l'ultima Non è l'ultima gara con voi Ah no Ma poi non si sommano i punti Per perdere anche con i portoghesi O se gli unici che abbiamo battuto Ci battano Facciamo in un bracket Solo con te dito io Certo Non voglio che la mia parola sia No Mi sono aperta No Ma come Ti ho colpita Sì qualcosa mi ha colpito Ok ero io Scusami Vabbè ma ti perdono Amica mi importa Santo Santo cielo Io voglio andare super in alto Aspetta Se solo riuscissi a giocare Ragazzi io Sento è massimilitariamente fermo Per dieci secondi Dov'è possibile che io Mi sia uomo Posso occhio Vabbè ma Dio Perché Viking è ultimo scusa No non ci posso credere Sì ma se Viking ci abbandona È finita Cioè Io sono sopra Viking Fa capire quanto siamo andati In involuzione Spostati 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 Vai 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 Spostati Ok ok vi ho lasciato di andare Grazie mille Freddo Oh mio dio Che cazzo di Scusate Eh ma perché Ci sono queste cose che si abbassano Camille non ha preso Il bush blue Strano Oh no Michele è scontento No Michele Non ha colto il rumorismo Michele è sarcastico È la fine Ora bisogna avere paura Ragazzi No non dai Ma No non No 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 Non ci posso davvero credere Non ci posso davvero credere Non terzo fino all'ultima curva E sono diventato decimo Per quattro oggetti consecutivi Ragazzi io ho fatto quello che potevo Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ma Cioè dove è la strategia qui Chat cosa dite Strategia Cioè E E Tu Ragazzi Se facciamo 40 punti in più Vinciamo No comment No comment Su come ho fatto terzo No comment Su come ho fatto la dodicesima terzo In dieci secondi Quindi si esce adesso Sì Ma hanno detto che non ci sono pareti illusorie su Mario Kart Quindi non dovevo sbattere Vabbè Io però Se si trovassero Si trovassero le Le shortcut Sì Quando stiamo zitti però secondo me facciamo meglio Io sono stato zitto Ho fatto un secondo posto e un quinto Dai No Con me non funziona Il secondo e il terzo e poi Noi pensiamo anche a intrattenere Questo è il fatto È quello Se io fossi stato zitto Sare arrivato sicuramente secondo Sì 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 You have just won Twitch rivals Oh baby Oh grazie Marco Grazie Grazie Wow Grazie a Saitonia Andesco Mi name è Pogo Pogo Thank you Thank you Pogo Cosa dovevo aver vinto scusate No no abbiamo vinto Scusate Penso che abbiamo vinto Abbiamo vinto questa puncia di minchia Però Vabbè Questa Questa Oncia di minchia E la devolveremo La devolveremo in beneficenza Dai dopo cinque ore di live Una parolaccia possiamo dirla Secondo me Ragazzi facciamo al lupo al lupo Ogni volta uno fa finta di essere Tom La volta in cui lo insultiamo è davvero lui Capito qual è il problema La famosa funcia Davanti tra l'altro a tutto Twitch mondo Nel canale Twitch rivals Quindi adesso che dobbiamo fare? Niente Basta Pensate arrivare penultimi Cioè fare schifo ma comunque nemmeno l'orgoglio di arrivare ultimi Scrivono in chat Che divertimento nintendiano Cioè hai creato un nuovo concetto Immagino una sala che ride Ride di te Con te Convinta Ragazzi ma Siamo sempre a tempo a arrivare ultimi Ma sì Ora perdiamo anche altri portoghesi No mi perdono Io mi immagino Io mi immagino questi portoghesi Che giocano a questo punto Con i cecona al contrario Perché è l'unico modo Nel quale possono perdere da noi Comunque le forze sono buone Li abbiamo 20 così brutalmente all'inizio Che mi aspettavo una serata diversa Anche io Io quando ho visto che abbiamo fatto bene Ho pensato Vabbè io ho fatto schifo Ma i ragazzi sono bravi Ce la possiamo fare Farcela abbiamo pensato E invece Diciamo che l'unico confermato Per rappresentare l'Italia Nel Mario Kart Rivals Del domani È Viking Ci sta Grazie ragazzi Grazie mille Senza audio Ricordiamolo Ma forse è per quello Che sto giocando bene Perché ci sarà un baccano Ma rimettilo l'audio Non posso perché prende tutta una questione Se lo metto io Se sento io l'audio non lo sentono in streaming Però se vinciamo Secondo me capiscono la tua chat Io ho una proposta Vai Viking from Germany I bambini Vi ricordate quando da bambini Perdevamo E allora pur di rompere il cazzo Facciamo le piste al contrario Oh no Io prossima Facciamo la pista al contrario Gli tiriamo tutti gli oggetti addosso No Perché Sì No non si può Guarda mamma senza Sì È vero Bravo Zenigata Alla prossima volta Facciamo i rivals su SnowRunner Vai Vai Vediamo Vediamo Mi riesce a uscire Vediamo Dal fango Dal fango Dalla neve Perdonatemi Perdonatemi Klaju Mas Che è dello staff di Twitch Scrive in chat No Chi vince questo Vince tutto Ok Bene Sì 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 Quello che abbiamo fatto finora Non serve bene Ha senso Tanto perdiamo lo stesso No Chi vince questo vince tutto Eh sono le regole dei rivals Le regole dei Cioè Chi vince questa vince Vabbè sono inglesi Non nemmeno possiamo capire Dobbiamo solo accettare Segna vince Che segna vince Quello che ho capito Dobbiamo rifare lo stesso gruppo Per le mappe nuove Il 4 di agosto Giusto? Sì Esatto Dobbiamo rifare lo stesso gruppo Per le 4 di agosto Giusto così Ma cosa state dicendo? Ma Parlando ad altro Voi in che gioco sareste Tipo primi sempre In quale rivals In teoria era Mario Kart Ma come? Non so più cosa dire Allora Rivals di celeste Di God of War O di Sekiro Di Sekiro? Uè Sei così bravo Io non l'ho mai finito Porca miseria Io ho un rival di Smash Lo farei volentieri Io lo guardo Simulator Si può? Madonna Cos'è? Non mi hai sentito Power Wash Simulatore di idro pulitrice Ah ma è quello del tizio Che pulisce tipo i muri Della casa fuori Con la muffa Oh bellissimo Non c'è neanche un tizio È solo un insieme Di ugelli Che spruzzano Bello Ma che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo aspettare Allora Ripeto Io non sono sicuro Di aver capito bene Ma se ho capito bene Adesso siamo in un altro bracket Eccoci Attenzione Sentiamo Hi guys Hi Say a move mind The lobby should be up Now Ok Move mind di nuovo Ok Vabbè Accomodatevi all'uscita Move mind non è Non è Il primo Il portoghese Sono i portoghesi Ok Ragazzi almeno Almeno ribatti i portoghesi No no Non dirai I portoghesi Vanno di scopo Che non abbiano imparato Dalle scopite a tempo Esatto Esatto Oh no La community spagnola Sta dando dei botta Tutti i team Che vuol dire? Cioè che la community spagnola Accusa Gli altri Di buttare Ma non noi sicuramente Non so come si possa buttare Di buttare Che vuol dire? Cioè cos'è Tipo Emilio È l'unico È l'unico che ha il tizio Quindi devi entrare tu E noi dobbiamo venire È entrato bro Ci siamo Ok ok adesso me lo danno Incienze Dicono che si può E come fai? Come si fa? Eh Non ne ho idea Come si controlla I rivals di beneficenza Ragazzi a postulire una roba Se noi avessimo Questi risultati Al contrario Gli spagnoli Non conosco il gergo Di Mario Kart No Vuol dire in questo caso Che bot vuol dire Sei scarso Allora Allora Grazie Abbiamo cominciato a giocare ieri Saper vincere Saper vincere Saper vincere Cioè L'ho installato ieri sera Lo disinstallerai stasera Allora In realtà Lo vedevo convinto Ma in realtà Non è Capito che c'è un'area in G L'elenco delle gare Ce l'abbiamo Sì Mi sono spento Tipico gergo di giochi online Non solo Mario Kart Ma in realtà In World of Warcraft Bottare è quello che vi dicevo io Quindi dipende dal gioco Sì 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 Di nuovo Yoshi Allora Noi sono altre sei Minchia No Non ci dicono Non ci hanno visto Le coppe stavolta È finita No Mi manca uno però Uno due tre quattro Io 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 Mi era un attimo La reazione State buttando La buberia È possibile Secondo me Prima di finire Mancano queste sei gare E altre sei gare Anche secondo me Minchia Tutti Si stanno facendo queste sei Ma che dobbiamo fare poi Ma quante sono Scusate Ne ha scritte Se ragazzi Sono Sono Due round robin Da quattro Gare Cioè da quattro team Ciascuno Quindi Ognuno gioca Tre gare Tre le abbiamo fatte prima Siamo andati in loser bracket E tre le facciamo adesso La prima L'abbiamo fatta Di sei Ma quattro uno è stato squalificato? No Aspetta Aspetta Oppure Oppure Questa adesso è Quale dobbiamo scegliere ragazzi? Allora La donut Era Terra Santo cielo Eccola Pianuna ciambella Quindi la banana La banana La seconda Della banana Ok Sono i portoghesi Di prima o no? Dicono che è l'ultima questa E poi basta Ok Va bene Va bene Daris Grazie Credo Credo che siano stati In chat Dicono che sono stati squalificati Gli spagnoli Ah no Ok Il secondo è un bracket Non è un euro No Non sono stati squalificati Sono stati squalificati Gli spagnoli Vinciamo noi Allora Scusate I migliori dopo loro Non lo so Squalificare tutti Tranne noi e portoghese E comunque potremmo perdere Tra i perdenti ragazzi Ok Perfetto Terzo quarto posto Mamma mia quanto boxing Sì Noi ci stiamo bestemmiando Perché non riusciamo a fare le curve Ma non mi permetterei mai Di insultare qualcuno In realtà Francesco non ci dà neanche il permesso Di dire le parolacce Quindi non possiamo neanche No ma infatti A pensarci seriamente Era capricciante Che questi Siamo capricciante davvero Pensare che questi Per un torneo di Mario Kart Si stanno veramente incazzando Tra l'altro un torneo di giocatori misti Che magari non l'hanno mai giocato qui Non si vince niente Nel quale non c'era da Cioè E' uno showcase del gioco Sì sì Esatto Ci danno soldi Beneficenza Se ci tengono proprio alla beneficenza Minchia Michele cosa ho visto E' tanta beneficenza Dai Oh primo a distanza di un mese Dal secondo sono Però Io sono ultimo a distanza di Potos No io contro i porti Arriva un guscio blu Non so chi è primo Io ovviamente Grazie Io penso di essere in piena evoluzione Perché perdo anche Contro il motore Adesso Facciamo l'ultimo Quei riporto che Mi rosa Ma se abbiamo detto Del guscio blu Non prende Il guscio blu Non può prendere Lei lo sapeva perché L'ha vista arrivare Esatto Non mi permetterei mai Mica sono viking Proprio tu Ragazzi sono molto lontano Da tutti Questa cosa è bizzarra E come si sta lì Fra Non merda Ok Il proiettile Non c'è il proiettile Roby Non è possibile Non è possibile Ho lanciato io un guscio blu Per la prima volta Portoghesi No Era l'ultimo giro L'ho visto Wow Ragazzi A sto giro non l'ho visto Io sono andato Quattro volte di fila Quattro volte di fila Testa coda Vabbè dai 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 Sono sei punti di differenza Posso dire Perché quando arriva primo Vikings Tanti complimenti A me non mi cagano Bravissimo Sei stato bravissimo Grazie Il quadri Yoshi è nell'uovo Circuito Yoshi Non Yoshi Valley Circuito Yoshi È nell'ovente Ok No però sei stato bravissimo Gianluca Veramente Bravo Gianluca Vengo a regalare 10 sub arrivo Dai Dai Perché non venti Come? Perché devo farle invece In beneficenza le altre Ma sto più a parlare Che ore sono? Da quanto gioco? Perché VRD ha il colloquio Per le tasse È giovedì Simone È giovedì Non c'è a fare Ha vinto Midna Hanno ragione Ha vinto Midna No Rai Gianluca mi raccomando Se adesso ti ripeti Prometto che ti faccio I complimenti anch'io Grazie Grazie Sì sì A posto Ah però se Gianluca va bene Dai Oh voglio i complimenti di posta Sì Sì Ecco Via Mamma mia Oh non riesco a stare in più di un attimo ragazzi Deve uscire da sta melba No ma perché quando faccio le cose fighe mi arrivano gli oggetti Il divertimento non intendiamo Gli ultimi saranno i primi sì Che è che mi spara il fuoco da dietro Ma che cazzo Impatto Impatto Ma impatta in un altro posto che so io Che non dico perché rispetto Francesco guarda così tanto Grazie Figurati quando vuoi Pappancuore Mamma mia Caspita mi sta proprio a cuore la beneficenza Eh Dovete carriare voi ragazzi Sono messo malissimo Non preoccuparti Non preoccuparti Ma come è possibile che si sia proprio ribaltata la situazione Scusi E cos'è Io potrei usare il guscio rosso con Sattaku Ma non lo faccio Ah ma Ma guarda No ma che dici Ragazzi ma la bibbia l'avete letta tutti Sì Ne pensate Allora mi pare di ricordare che alla fine perdono tutti Però non Ah ok ok Un dubbio Non lo prenderebbe Sattaku Ok occhio al guscio blu puttana No ma non pensavo che funzionasse così a contatto alla bomba Penso che Bucking mi abbia ucciso No no era rosso Ah è rosso non si può Mi puoi calcare l'ultimo giro Ma ragazzi non è possibile che io sia uscito Non me lo merito È stata una gran gara Prendilo No Luca ammazzalo Prendilo Madonna santa Sabba vai sabba M***a sono andato fuori strada No Dimmi che sei terzo 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 Ma mi hai fatto lo sgambetto mi hai fatto? Sì ma non volevo Va bene va bene va bene Ho cercato di intercettare lì Siamo andati benissimo bravi Io ho fatto il rubatone uno ragazzi Siamo andati molto bene Mi caccare Ma perché Viking? Che è successo a Viking? Mi stanno Quattro punti Ma loro sono in vantaggio nonostante il primo posto Attento 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 perché abbiamo ridotto di due punti All'ultimo ci abbiamo fatto il rubatone uno Rubatone uno ragazzi Incredibile mille volte Allora la special cloud Dov'è la special? La special cup che io non capisco qual è Ma qual è la special cup? Eh Dovrebbe essere La pista Cloud top cruise Quindi delle nuvole dovete cercare Non giardino nuvola però No Forse è il vascello nuvolante La corona La corona Ah ok Ok può essere quello Io volevo il vascello nuvolante Il vascello nuvolante La corona La corona Il primo della corona Il vascello nuvolante Madonna che paura Veramente no Pure contro i portoghesi di nuovo no 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 I portoghesi verranno battuti per la seconda volta Vabbè ragazzi Sono due volte che all'ultimo giro mi prendo tanti di quegli schiaffi che faccio ultimo Ma che stanno io? È stata la mia serata Oh mio dio ma parla di me Siamo un po' tutti Dai No no io Boh È vero Gianluca è primissimo in questo momento Carriaci tutti Eh però no sta funzionando No no sta funzionando invece Gianluca Vai Dai Pressure Pressure Ma vaffan Ma come fai a recriminare già all'inizio? Non male Non riesco a concentrarmi Madonna ragazzi ho fatto il salto della guagliarella Il giocatore Guagliarella Grazie Tipico 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 tanto di guagliarente Tipico Ruggire Ruggire Come hanno fatto a superarmi in salto? Ma come è possibile? Ragazzi posso dire che questo gioco c'ha alcune delle piste che sono veramente Belle e divertenti Fun e dengiling gameplay È vero Showcase Nintendo E' sciocchini che siete a farmi il fulmine mentre sto volando Ah 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 stai facendo Nintendo La croppiettante Sì E' quello che ho visto? sì le banane le porto la città lo fa io sono aggressivissimo questo partito adesso vai vai dagli secco vai vai michele vai che attenzione ce l'abbiamo la cali mero dance eccola qui in cali mera sì ma non riesco a prendere più oggetti oh madonna guarda vabbè vabbè non importa non importa non mi interessava così tanto ma che cosa gli devi dire che cosa le devi dire ma non è possibile sempre l'ultimo giro ma ma no ma fiorella pannoia a culo fiorella pannocchio e stasente una pannocchia o la stella non voglio farti del male proprio scegliati ma cosa sta succedendo non è possibile ma cosa sta succedendo ma come abbiamo fatto basta io me la sono tentata me la sono tentata come ho passato lì e sesto sesto mi dico adesso ho provato a carriarvi però pure voi insomma ma io stavo andando bene poi a certo punto ho fatto ho fatto il turbo e il turbo mi ha tolto mi dico madonna devo farmi due doci io non ci faccio più che ore sono come si vedono i colori musicodromo musicodromo allora la foglia arancione foglia arancione miliodromo meliodromo e questa è terribile è un po' arancione si anche secondo me ma funcia o sesso vi dico esatto Roland io ho pensato che Mike volesse proprio a questo punto sfogare la frustrazione sul sesso sesso vi dico sesso dopo la live faccio sesso qualcuno non ha scelto è stato quello bene va bene random no allora a questo punto squalifica aspetta 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 oh quasi che rischio in chat da noi dicono da oggi in avanti non chiediamoci perché non localizzano i giochi in italiano se giochiamo così male ma come cosa volete la figura sto facendo per voi no non giochiamo così male ma neanche così bene che siamo ben lungi da giocare bene ecco questo è uno belluno monica belluno stiamo delirando puoi derapare con un palco eh è vero le stanno derapando un sacco le tue palle si ma divertite che gli spagano ragazzi sono caduto nooo nooo eh ste curve fan schifo raga e sono le curve sono le curve oh Gesù e digli digli qualcosa Gesù quando salta la musica saltate anche voi si quando salta la musica quando salta la musica ma che Kling tu che giochi con l'audio quando salta la musica mi raccomando va bene va bene vabbè ma allora ignoratemi non c'è problema raga tranquilli bella pista di nooo 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 arriva un guscio blu e non è mio meno male e sono io e sono io va bene va bene mamma mia sta curva santo dio nooo 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 perché da non ero terzo ora sono ottavo io io non io mi sono innamorato stanotte di mario kart ma la cosa sta passando si era un'infattuazione passeggera eh signore di nintendo intende dire che ora passa al fidanzamento ufficiale lo sposa che deve dire questo oh mio dio ilena levati dalle palle per favore grazie no ma levati proprio la pasta ma perché ero un uomo ah io pensavo che da questo è un altro giro capito tipo basta ah 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 ahah io sono.. sono nella mia comfort non iPhones io sono esagono dolloviesesimo ma ero terzo e non ho sbagliato cos'era quel verso di Roberto?? no, niente sto vincendo ah ok cioè è proprio fatta è finita no raga non è possibile non è davvero possibile non ci credo non ci credo nessuno di noi ci sta credendo norma di vita la stella quando ho fatto lo sciocco primo grande no ma perché il busso blu e me ma io l'abbiamo preso se c'è raiden ha provato a carriarla ragazzi pazienza tutti sotto siete mangi ragazzi e infine ragazzo anche con il francesco vorrebbe solo cenare invece no complimenti non ho idea di cosa sia la campana la campana ok non mi ricordo questa quale sia zero che però arrivi fino in fondo non è agito io non ho seguito molto bene le conferenze marrano tu solitamente è sempre sul pezzo quando esce sesso 2 sesso 2 no allora doveva uscire dove riuscire ma l'hanno rimandato al fiscale del 2023 dovevano fare bene la cosa la simulazione della candida ma che schifo non credo ma stesso si scrive col 3 raga non ecologiero esatto anche su switch ragazzi sì però sono un po preoccupati perché su switch dura meno allora allora doveva veramente mi deve veramente bella questa pista che è una curva non ci posso credere che la terra sia tonda è assolutamente assurda questa cosa ragazzi veramente tutti i giorni no il guscio blu eh no il guscio rosso ma guarda che c'è una banana davanti ai doppi oggetti guarda questi secondo me la sera non giocano a sesso te lo dico io no 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 che senso no sesso 2 avete detto che esce nell'anno fiscale 2024 sentimi tutto o c'hai l'antirrima o neanche te giochi a sesso perché ancora l'hanno rimandato ma è sesso 2 che hanno rimandato il primo dipende che cosa fai la strassi grande sessuale no non è bene ahahahah vi mannaggia la miseria occhio break non ci posso mai allora ero secondo ero vostro amico ero vostro amico fratello il cannone il cannone fa lui non non ci voglio credere io non voglio credere io non voglio credere a questa serie di sfortunati erano io non voglio credere a questa serie ero ero secondo sono undicesimo si si primo si ho capito è in automatico come se sta come se sta ma che cazzo un attimo ragazzi mi sa che secondo me è fatta raga vinta ragazzi qui hanno suttato che sto scherzando francesco allora aspetta aspetta vediamo un po' nooo si può fare si può fare si può fare come sessa raga sessa ve lo giuro no ragazzi cioè sono arrivata sessa è proprio una serie di cioè una combinazione di merda che mi è piovuta addosso qual è la prossima dai pista pista triforza monte wario bene io non lo non pista triforza ok stella no no ho sbagliato no non quello wario monte wario ragazzi stella ultima pista della stella eh ho cannato io chiki beh allora sceglierò a te sicuro dai oh comunque c'è scritto wario in quella quindi non posso dirmi niente wario c'è scritto un po' da per tu cazzarola ho sbagliato ragazzi undy oddio e so questo beh cosa è questa infatti stava madonna che schifo di pista chi c'è io me la sento e gran è fatta allora finalmente dopo quindici corsi che ci potremmo vincere che mancano veramente pochi TW va bene dai 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 io sono arrivato settimo per due volte migliorando il mio merda di francesco io non capisco posso dirle parolacce o no ok quando basta che non dici fa o l'ha detto ma scritta faq frequenti anzioni di questione sì perché non so giocare gli sto chiedendo benissimo simone allora sacrificaci tutti ma sai che una scorciatoia esatto che ragazzi ragazzi all'oggetto gettabile puoi spiegarti meglio si è un fungo un fungo ragazzi chiaro praticamente te lo metti nell'anno e vai più veloce mi chiede va benissimo lo faccio per te attenzione doppio oggetto e si gode attenzioni turbinski ok gli alberi il turbinski e si va guardo questa dietro sabato no mai come non vedo un cazzo pensate a casa 27 a minigioco eh ragazzi non vedo niente però non ho visto un cazzo taglia quella è mia scusami davanti ci sono gli italiani io non ho usato oggetti ragazzi siamo tutti italiani davanti come ho goduto di questa scelta siamo tutti italiani davanti non è vero ok ma come è possibile se non è possibile arriva un pisellone attenzione aspetta nel senso intendevo aspetta una cosa no arriva un proiettilone come si chiama il pisellone pisellone si può dire sì pisellotto lo bill pisellotto lo bill è quasi fatta no vabbè chi è stato di voi italiani a mandarmi il guscio verde in faccia mi sa che è stato fossa perché l'ho visto ho visto che era fossa è stato fossa oh l'ha detto ripetarti no ragazzi confetti siamo andati bene io se no oh mio dio oh mio dio uh 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 attenzione fermi fermi attenzione oh fermi ragazzi non è vero combatte fermo oh perfectly i oh nam i mi bai cyclón uh Benultimi, sì! Raga, grandi! Berrava Midna, bravo! Grazie, bravo! Si è carriato! Si è carriato Midna! Grazie, forti ringraziamenti a Midna! Midna, brava! Midna, brava! Raga, non vedevo sta coroncina dal primo turno! Che bello, quanto ci sta bene! Adesso, bravo! Non c'è ancora? No, basta, vi prego, chiedo pietà! No, basta, guittiamo! Eh no, ragazzi, come basta? Se siamo in un girone da tre... No, non era un round robin, questo era un bracket! Non era un round robin, questo secondo me... Oh, mio Dio! E allora che l'hanno fatta a farlo! Mi batte forte il cuore! Per vedere chi era settimo e chi era ottavo! Dai, siamo settimi, sì! Il sesto due, signori! Cucchiaio di legno al portogallo, cucchiaio di legno al portogallo, dai! Hashtag non ultimi fino alla fine, ciao! Non ultimi! No, l'hashtag di oggi è how do you do? Grazie, laureanti! Grazie mille! Mamma mia, che meraviglia! Però posso dire che se non altro abbiamo dato un senso al nostro essere non tanto scarsi, come dice Sabato! Sì, sì! Settimi su Ottavio, mi dicono già! Vabbè, questi sono dei tagli... Fra, ti ho mandato un meme! Allora, se volete sminuire, fatelo! Siamo abituati, abbiamo le spalle grosse, siamo da tanto su Twitch, però andatevele a fanculo! Ragazzi, ragazzi, è stata una vittoria sofferta! Morale, morale! Ma lo devi mettere un posto a... Grazie, amici de crowd! È vero, fra! Siamo penultimi, non ultimi! È stata veramente una vittoria difficile... E poi è stato un numero sacro! Complessa, è stata una vittoria combattuta fino alla fine! È stato incredibile! È stata una vittoria... Bravi! Di testa, di pancia, una vittoria muscolare! Muscolare! Grazie! Abbiamo battuto Portoghese due volte e basta, solo loro, ma due volte! Se andiamo in Portogallo ci riconoscono come quelli che li hanno battuti, giusto? Bene, bene, bene! Per loro siamo un incubo pari agli altri, non sanno! Io devo dire che il discorso motivazionale di Seizonia prima della finale è stato incredibile! È vero, è vero! Cosa è che vi ho detto? Eh? Cosa vi ho detto? Quando esce Sesso 2 hai detto! Sì, esatto! E la risposta è oggi! In esclusiva per il PC2! È appena uscito Sesso 2, ragazzi, e lo stiamo vivendo! Adesso? In questo momento! E lo stiamo vivendo! Non ti senti? E lo abbiamo fatto! E lo abbiamo fatto! L'abbiamo anche fatto! Godopoli, Godopoli! Quegli ultimi dieci secondi erano il Sesso 2! E come disse un saggio Sesso, Sesso vi dico! Posso mandare in avancoperta il capitano a chiedere se abbiamo fatto? Perché io qui mi menano, mi menano! Il Sesso è in 4D adesso, sì! Ah, pure! Ormai Neil è un fratello, un brother! Sesso è legata, ovviamente, lancia il meme giusto! Mamma mia! Se solo... Sono meraviglioso! Se solo gli altri team potessero comprenderci riderebbero con noi! Prendo, ma... Esatto! O di noi, a seconda! Ma, di noi... No, 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 no! Di noi già lo fanno! No! In realtà no! Perché nessuno ride proprio per un cazzo negli altri team! Ma zero! Ma quanto abbiamo mandato in beneficenza? Vogliamo dire a chi l'abbiamo mandato? Almeno 7 euro! Allora, fate parlare il capitano! Abbiamo mandato al Trevor Project, che è un'associazione che si occupa della prevenzione per i suicidi nella community LGBTQ, quindi quella... Cioè, ma i suicidi che coinvolgono questa community, e non so però il quantum, perché ovviamente a ogni posizione corrisponde, credo, un tot! Allora, sì! Sì, la prima posizione era 6.000, mi pare c'erano 25.000, probabilmente avevamo mandato 1.000 qualcosa! Dai! Beh, Poggo! E ci siamo anche divertiti... Ma dicono davvero? Ma davvero erano serie e non si divertivano? Ma... Scusate! Non lo so! Mi sto facendo raccontare! Ascoltate il ragionamento, se il primo manda più in beneficenza 25.000, noi mandiamo 1.000 all'ultimo danno soldi, quindi! No, 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 no! No, no, no! No, tipo i nostri sono 1.500! Perché non vorrei fosse una tattica dei portoghesi per acchiapparsi con... No, ma sono 25k in totale, credo! In totale, esatto! Quindi, diciamo, tutto l'evento, tutto il Rivals, le otto nazioni coinvolte hanno destinato poi 25.000 dollari alle diverse associazioni che hanno scelto. Poi magari qualcuno ha scelto anche la stessa identica, eh, c'era una lista semplicemente delle associazioni supportate da Twitch, i soldi vanno direttamente, cioè c'è Twitch che fa queste donazioni. Bene, bene! Ci siamo divertiti! Anni, come mi spiace che... Sì! Deve andare a chiedere se abbiamo finito o no. Ho chiesto in privato, ma non mi ha fatto il responsio. Sì, ok! Ma di più, mi spiace per i ragazzi che hanno seguito anche altri streaming ed erano meno divertenti del nostro, mi spiace. Sì, thank you for taking part, quindi ci siamo, ragazzi! Ok, for taking part, ok! Ragazzi, è stato stupendo! Perfetto! Ragazzi, è stato veramente bello! Sesso 1, da rivedere, ma sesso 2 capolavoro! Sesso 2 capolavoro! C'è 10-10, IGN e Too Much Water, però vincino! Per me, per me, l'emozione della vittoria contro il Portogallo, alla fine... Sì, 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 vale tutto! È vado su tutte le esperienze! Che bello! Credo che tu possa giocare su il popolo direttamente sesso 2, non preoccuparti! Uno è così, introduttivo, ma... Ragazzi, io scappo, perché qui... Ciao ragazzi! Mi ucciderò, però, è stato un onore, vi voglio veramente vedere! Grazie del caring, Simo! E grazie anche a Gianluca del caring! Grazie a tutti! Ragazzi, siamo... Aspetto la fanart con il guscio blu, mi raccomando! Sì, sì! Assolutamente sì! A me ha strafatto morire Mike nell'ultima pista che ho cominciato a fare! Simone, perché hai fatto questo? Ma sesso, sesso vi dico! È la cosa più bella che ho fatto! Sesso vi dico! Allora... Allora, ragazzi, grazie, davvero... Tre ore e quaranta sono volate, mi fa male lo stomaco! Sì, sì, mi fa veramente male! Sia stato divertente! È stato bellissimo! Come è stato divertente per noi! Da rifare, assolutamente da rifare! Perché chiedo ai nostri, vi siete divertiti? Sì! Risponderanno fra un quarto d'ora! Ragazzi, io vi saluto, così poi saluto anche i miei ragazzi qua in chat! Fantastico! Allora io chiudo la chiamata! Un bacione, Tim Italy! Ciao, ciao, ciao ragazzi! Ciao, buona serata! Sesso! Sesso vi dico! Sì, lo so che era sesto, però non ci sentiva così bene! Ed è diventato l'inno dell'Italia! Se avessimo vinto e ci fosse una bandiera con scritto qualcosa sarebbe sesso! Sesso vi dico! Sesso virgola! È stata una live incredibile! Io pagherò un montatore video per avere una... È stato... Io voglio un best off di questa live! Non so come farò a ottenerlo! Non so chi dovrò pagare, chi dovrò assumere! Ma ci sarà un best off di questa live necessariamente! Ringrazio tutte le persone che si sono sabbate! Tutte le persone che purtroppo non sono riuscita a leggere Ma spero con tutto il cuore che nonostante io abbia mancato di leggere le sab Voi vi siete divertiti almeno la metà di quanto mi sono divertita io Perché ogni volta è troppo divertente Mi ricordo con uno che sono stata malissima Mi sono sentita i rivals ad Amsterdam incredibili Mamma mia quanto rido con queste cose! Io sono troppo contenta! E tutti i soldi che abbiamo guadagnato come team Andranno in beneficenza! Ovviamente abbiamo scelto il Trevor Project E come avete sentito Che è un'associazione che a volte Se ci fate caso vedete anche Durante il mese del Pride Perché è una delle associazioni preferite di Twitch E anche a noi piace supportare Anch'io sono... Io puzzo da ridere! Non so come descrivervi questa cosa! È stato incredibile! E quindi... Tante tante citazioni Ci porteremo a casa tanti meme Ma per adesso io mi porto a casa Solo tanta fame Quindi vi lascio andare a cenare Per chi è rimasto qui E chiudo direttamente Non ho la forza di fare un... Niente! Voglio solo chiudere e andare a mangiare Perché dalle 5 che sono qua seduta Puzzo di penultimo Quindi andiamo proprio a mangiare E a giocare a sesso 2 Eh se si porteremo a questo punto Sesso vi dico Esatto È sempre meglio Lo scoiattolo È sempre meglio Buona cena! Hashtag How do you do? Ci vediamo Domani alle 3 Domani alle 3 Si disegna C'è una piccola sorpresa Da farvi vedere E si gioca un po' a stray Magari Non lo so Io vorrei soprattutto disegnare Quindi venite con le vostre Song request Ciao amici! Fatti bravi E un bacione! Bye bye! How do you do? Magici! Nel cervello soltanto l'aroma Ciao!